buongiorno buongiorno a tutti quanti benvenuti a questo incontro sugli stati generali dell'oncologia eh la terza tappa dopo quella del nordeste del nord-ovest che si concluderà alla fine di questo mese con la quarta tappa eh per la zona centro Italia eh è la seconda edizione di on connection che eh è iniziata l'anno scorso nel duemila ventuno con sette interventi diffusi sul tutto il territorio nazionale per affrontare i problemi capire le eventuali criticità e approfittare di un momento di confronto fra aziende pubbliche aziende sanitarie pubbliche eh professionisti terzo settore e eh le aziende anche della produzione quindi aziende del farmaco aziende dei dispositivi medici e per mettere a comune tutto quello che eh conosciamo e che può eh trasferire una sorta di trasferimento virtuoso di conoscenze e competenze arricchire quello che è il questo settore è un settore molto importante per la sanità uno dei più importanti visto che stiamo parlando di eh tumori che è molto complesso perché eh si svolge soprattutto alla luce anche della cronicizzazione del di questa malattia legata alla anche alle novità e le innovazioni tecnologiche che la medicina ha avuto in questi anni ha determinato una sorta di continuità tra eh l'ospedale che era tipicamente il centro dove si realizzava fino a pochi anni fa il tutto mentre invece si è portato sul territorio quindi la necessità anche di una continua riorganizzazione e non ha interessato solo questo settore ma tutti i settori abbiamo avuto modo di eh scoprire di scoprirne la necessità proprio durante gli ultimi tre anni con eh la pandemia e di cui il risultato finale è anche una spinta verso la riorganizzazione del settore territoriale legata al PNRR in particolare ma avremo modo appunto di parlare di queste e di tante altre cose durante questi due giorni eh questo pomeriggio e eh domani mattina e domani pomeriggio sono incontri nei quali non si parla solo ed unicamente di eh gli aspetti tecnico scientifici ma si parla soprattutto dando per scontato le competenze, le capacità, le caratteristiche, le tecnologie oggi presenti e come mettere a valore tutte queste cose cercando di rendere più eh diciamo più funzionale e più efficace la rete che congiunge una rete che alle volte c'è, alle volte non c'è, c'è sicuramente la possibilità ma la capacità di mettere in un'altra tra rete tutte queste eh conoscenze tutte queste competenze poi produce sicuramente i migliori risultati e quindi si ragionerà soprattutto sul come. Mi presento sono Carlo eh Tomassini sono un medico, un collega medico, ho avuto l'occasione di eh avere delle esperienze di tipo gestionale in eh aziende eh sanitarie di una regione, la regione toscana come avrete capito sicuramente dall'accento quindi non c'era bisogno nemmeno di dirlo e eh e oggi invece eh partecipo alla direzione eh scientifica di motore sanità e eh oggi quindi proviamo a eh ridurre tutti gli argomenti ricordando che questa è una riunione un meeting come scusa dire oggi ibrido nel senso che partecipano in presenza soprattutto il eh relatori che interviene mentre invece gran parte degli ascoltatori è sul incollegamento alle nostre piattaforme Zoom e Facebook e avremo modo poi anche di eh sapere quanti sono le persone che si stanno collegando. Il la prima eh sezione la prima sessione di lavoro avrà a che fare con le istituzioni clinici del terzo settore l'industria come integrare competenze per il bene dei pazienti quindi già iniziando a mettere a fuoco questi aspetti più eh di software che non di hardware ma prima di questo ci sono i saluti istituzionali di eh alcune personalità della eh dell'istituzione politica delle quattro regioni che eh sono oggi eh partecipano oggi in questo meeting cioè la Campania, le Marche, la Puglia e la eh Sicilia. Poi avremo una un intervento del professore Sabino De Placido, direttore del dipartimento di attività integrata di oncoematologia del eh Federico Secondo di Napoli e eh successivamente un intervento sulla cronicizzazione e sostenibilità economica grazie al professor Francesco Colasuonno eh responsabile dei farmaci e dispositivi e assistenza integrativa della regione Puglia e al dottor Ugo Trama responsabile farmaceutica della regione Campania e poi seguirà la eh tavola rotonda a cui parteciperanno il eh professor Roberto Bianco ordinatore regionale ehm IOM Campania il professor Roberto Bordonaro direttore dell'UOC eh Oncologia Medica Arnas Garibaldi di eh Catania e Lita Schillaci professore ordinario principi management e fondatore di ILHM centro studi avanzate innovazione e leadership in health management e infine Stefano professore Stefano Vitello coordinatore regionale Cipomo Sicilia. Questa è un po' la scaletta della eh di questa prima sezione sessione pomeridiana però all'inizio quindi direi la parola sicuramente a ehm l'onorevole Simona eh Lupini vice presidente della quarta commissione ossiliare permanente regione Marche e mi risulta essere eh collegata su in su Zoom eh se mi sente può. Buonasera Buonasera. Buonasera a tutti e tutte grazie. Sì sono Simona Lupini vice presidente della commissione sanità e politiche sociali della regione Marche. Eh partecipo sempre volentieri a questi appuntamenti di motore sanità perché eh rispetto a una tematica come l'oncologia davvero eh va fatta strategia e deve essere una una strategia che mette insieme le risorse attuali quelle che sono diciamo nel prossimo futuro eh fruibili e eh e veramente imparare anche dagli errori dagli errori di eh di gestione di presa in carico perché comunque eh la malattia oncologica è sempre un percorso molto lungo che deve prevedere appunto anche una presa in carico eh dopo la diagnosi dopo l'intervento. Io di professione sono psicologa e eh credo moltissimo nell'integrazione socio sanitaria quindi una gestione una presa in carico che tenga conto anche eh degli aspetti socio sanitarie degli aspetti psicologici dei bisogni di tipo sociale che una persona che è inserita comunque in un sistema famiglia eh ecco va a portare appunto a a noi che dobbiamo gestire i i servizi e dobbiamo rispondere davvero a tantissime tantissime esigenze di ogni utente e della famiglia che lo deve eh seguire e supportare quindi ascolterò gli interventi tecnici eh molto con molta attenzione e cercherò di farmi portavoce appunto dei bisogni dell'utenza integrandoli con le nuove conoscenze e tutti i contributi che gli illustri relatori sapranno sicuramente mettere appunto in rete. Grazie a tutti eh vi seguirò il più possibile davvero anche durante gli spostamenti. Grazie. Grazie consigliera il nel frattempo me l'è raggiunto il collega Motone eh con cui condivideremo la moderazione di questa sessione anche della prossima e eh volevi aggiungere qualcosa. Buongiorno intanto buongiorno a tutti eh grazie per essere qui sia perché presente sia per chi si è collegato su eh su Zoom ed è online eh iniziamo questa due giorni dedicata appunto agli stati generali dell'oncologia al al sud è un tema eh in questo momento molto eh stringente che incrocia anche tutto quello che in regione Campania si sta facendo sulla rete oncologica eh campana che eh sta implementando importanti presupposti sia PDTA che ormai sono eh arrivati a diciannove sia eh diciamo la possibilità di un'interlocuzione più stringente con eh le articolazioni territoriali della continuità delle cure eh con accordi che sono ormai giunti in porta anche con i medici di medicina generale sebbene tutti questi tasselli debbano essere messi eh tutti al posto giusto eh il domani avremo eh qui eh con un'interlocuzione molto qualificata con eh autorevoli rappresentanti della eh regione Campania anche la rete diciamo tra tutte le regioni del sud è eh centrale in questo disegno diciamo di implementazione di migliori cure e eh ovviamente l'anello della sostenibilità dell'innovazione rispetto alla ricerca la ricerca di base traslazionale diventa un elemento centrale per consentire poi che queste innovazioni vadano eh a beneficio dei pazienti ma eh non mi dilungo oltre e eh diamo la parola a di Ismaele Lavardera che è deputato dell'assemblea regionale siciliana che si collega con sul Zoom. Credo che ancora non sia collegata ha mandato ora un messaggino dicendo alle tredici e quarantacinque e non sono collegati ancora gli altri eh rappresentanti istituzionali per cui se vuoi il professor Sabino De Placido. Certo. Allora professor Sabino De Placido che abbiamo qui in presenza che eh un docente della Università Federico Secondo eh nonché direttore del dipartimento di attività integrata di oncomatologia diagnostica per immagini in morfologia e medicina legale della dell'azienda ospedaliera Università Federico Secondo uno degli anelli chiedo scusa centrali della rete campana eh proprio rappresentata dalla eh dall'Università Federico Secondo che insieme al Pascale e alla Van Vitelli rappresentano eh i i gruppi eh diciamo di specializzazione dove di secondo livello di quei in questa rete viene fatta diciamo una sorta di di ruolo hub ovviamente rispetto invece agli spoke periferici. Prego Sabino. Buon pomeriggio e grazie per l'invito eh a parlare di un momento di attualità scientifica come innovazioni terapeutiche in oncologia. Io per i medi di tempo ho preso come modello un tumore della mammella che è una monotopia di grande rilevanza soltana ma perché il tumore della mammella stesso è un modello per le altre eh nell'ambito delle conoscenze scientifiche abbiamo vari premi Nobel poi abbiamo la prima chemoterapia è stata studiata nel tumore della polichemoterapia sia normale che è arrivata nel tumore della mammella i primi farmaci avversari molecolari tumore della mammella i primi immunoconiubati nel tumore della mammella che è una neoplasia che vedete la prima neoplasia per l'incidenza del tumore. Il 30% dei tumori femminili sono in incidenza tumore della mammella ma come vedete la mortalità solo quindici per cento. Questo gap vi dà già la sensazione di quanto noi riusciamo a fare come tutti. Cercato di importare sulla stessa scala come vedete sia la cura di incidenza che la cura di mortalità e vedete come a fronte di un aumento di incidenza c'è un dettamento della mortalità ma vedete anche che la eh quantità la magnitudo è completamente diversa. Siamo su per incidenza sui cento venti casi per centomila quantità per sorrenti per la mortalità. Quindi il tumore della mammella ha un tumore che in noi grazie alle innovazioni terapeutiche riusciamo in qualche modo adottate. La stima in Italia ci dà cinquantacinque mila nuovi casi all'anno di tumore della mammella a fronte di dodicimila decenzia. Anche questo fa capire come una buon parte dei tumori anche la gran parte dei tumori venga in qualche modo. Quello che ci assicura è che più di un milione di donne stanno in questo momento convivendo con il tumore della mammella stanno convivendo con il tumore della mammella in in diciamo in prevalenza nel senso che l'hanno avuto nei tempi per cento. Se può andare in esclusione ma va avanti da solo senza che riusciamo a modificare. Ecco qua. Grazie no. Come vi dicevo abbiamo avuto anni a disposizione forse. Lei c'ha forse questo collegato con altri più periodi. avanti. Abbiamo una serie di precedente. Abbiamo fino al duemila avevamo una serie di farmaci legati a conoscenze avanti a conoscenze biologiche come vedete con la scoperta dei ricettori dei due farmaci già per sangue molecolare ma nell'ultimo decennio andiamo avanti quello che si vede che abbiamo un enorme di farmaci a fronte e a completamente in una serie di conoscenze di tipo genoma del tumore della mammella grazie ai topili genologici che noi riusciamo a fare nell'ambito dell'anodarchia. Quindi l'anodarchia è proprio un esempio di forte innovazione. Andiamo ancora avanti. E se vedete anche dall'ultima colonna i nuovi farmaci sviluppati per il tumore della mammella sono quasi tutti i farmaci biologici avversario molecolare specifico ben poco solo con la parte basale legata alla chemioterapia. Ancora avanti. E che cosa abbiamo capito del tumore della mammella? E' un tumore impostamente che lo c'è. La sensazione è ormai la certezza scientifica che abbiamo che non esiste il tumore della mammella. Esistono vari diversi tipi di tumore della mammella diversi fra di tutto e ciascuno riconosce la propria crescita a una determinata molecola e questo può essere diversa da donna in donna che lo presenta. Quindi le terapie in risposta a queste devono essere fortemente eh fortemente personalizzate. Andiamo ancora avanti. Vedete che per quanto riguarda l'istologia è vero c'abbiamo tipologie diverse, settale, oculare, quello che vogliamo. Per quello che riguarda l'istochimica riusciamo a vedere come che siano con i recettori per l'estrogeno, per i testini, giorni e due, nessuno dei tre. Ma in grande miglioramento, prossima di appostiva, si è fatto andando a studiare i profili genici della simbola neoplasia. E qua vedete per i profili genici sono moltiplicate le tipologie e i profili diversi di tumore, la luminale A, luminale T, il due, il triplo negativo, oggi se ne stanno aggiungendo tantissimi. E sono completamente diversi tra di loro. Faccio un esempio, sono diversi per frequenza, sono diversi per dargli aggressività dal più basso il luminale T al più aggressivo il triplo negativo. L'eprogno si buona per il luminale B, povera per il triplo negativo. I cinque anni di sopravvivenza dal 94% dei luminali A ai 76% dei triplo negativi. E anche come vedete le terapie in basso sono completamente diverse. Segni che sono tumori che riconoscono dei driver dei cresciti, delle molecole che contribuiscono a cresciti di tumori completamente diverse. Pertanto devono essere accreditati con parmici biologici completamente diverse per antagonità di questo profano. prossima diapositiva. E noi abbiamo anche caratterizzato alcuni biomarcatori con la ricerca del tumore della mamma. Questi sono andato sempre a incrementarsi. Recettore per l'estrogeno, recettore per l'2 è già citato, ma ad esempio PDL1 e PD1 sono due recettori che avviano la pratica dell'immunoterapia, le mutazioni del recettore per l'estrogeno, le mutazioni BRCA1 e BRCA2 che indirizzano verso un'antantia che si è vero familiare, l'azione di teatricanista, specifico che possa essere, diciamo, di antagonizzazione di questa forte pato e di crescita. Prossima slide e vediamo come contemporaneamente allo sviluppo di biomarcatori si sono sviluppati nel numero di terapie. Negli tumori che sono con i recettori positivi, con le 2 positivi, nei triplo negativi. ciascuna di queste terapie ovviamente colpisce una patria di crescita e quella patria è responsabile della crescita del tumore della singola paziente. Siamo nell'ottica di una terapia assolutamente personalizzata e ci stiamo avviando adesso un mecanismo sempre più di precisione nei confronti del prossimo anni e prossimo anni. Faccio degli esempi, negli mori che sono per i recettori hormonali, l'innovazione farmacologica prossima di positiva più importante sono gli inibitori di ciclina, gli inibitori di chinasi 4-6, ciclina di peonette, falbocili, brimbocili e abemacili. Bene, vedete dalla prossima diapositiva, li rivedete in giallo, con una malattia plurimetastatica, la mediana di sopravvenza ha subito i 5 anni, 63 mesi, 67 mesi. Un paziente che ha malattia metastatica, diciamo, a ossa, viscere, a quello che si vuole, con questi farmaci, una semplice complessione, sia fortemente indirizzata, fortemente etichettata, beh, abbiamo 5 anni di mediana. 5 anni di mediana, che è il punto di mezzo, vi fa subito comprendere che ci sono il 50% di queste pazienti che superano i 5 anni. Alcune forse non moriranno assolutamente per timore, mentre prima la prognosi di queste pazienti era assolutamente scadente. Ancora avanti, e riportate anche nella fase, ancora avanti, riportate nella fase adiuante, questi stessi farmaci, nei tumori ormonosensibili, ancora avanti, nella parte, diciamo, di tumori che sono quelli più, a prognosi sfavorevoli, tra quegli ormonosensibili, vedete, a 3 anni abbiamo 90% di pazienti che non ha il testo di malattia. Questa è una opera ancora in corso, perché sono dati assolutamente preliminari, nel senso che non sappiamo a più lungo tempo, ne stiamo aspettando i dati, però questo vi dà l'esempio di come queste malattie possono, in un intento o una rettiva di terapia post-chirurgia, andare a guarigione, prossima diapositiva. Inoltre abbiamo anche test multigenici, come l'onotac X, che ci permettono di valutare se noi possiamo risparmiare nei pazienti di malattia, ma dove non funziona. Facendolo con un test multigenico, andare avanti, nella nostra esperienza, andiamo a seguire ormai migliaia di casi, prossima diapositiva, con questi test multigenici, prossima ancora, vedete, noi nella nostra indicazione di pretest oncotype di X avremmo dato la chemioterapia al 53% delle persone. Dopo, avanti ancora, assolutamente siamo andati al 31%, risparmiando al 20% delle pazienti la chemioterapia, solo che era assolutamente inutile, avrebbe dato ospedalizzazione inutile, farmaci inutile, qualità di vita inutile, sapete tutti quanti quanto le donne non hanno a fare la chemioterapia in questo senso. Quindi tutto questo ci porta l'innovazione verso una caratterizzazione sempre più diciamo accurata della malattia e quindi delle cure da fare. Prossima ancora, e nelle pazienti R2, ancora e ancora avanti, vedete, grazie agli anticorpi monoclonali, trastuzional per pulsum, avanti, avanti ancora, noi riusciamo ad avere ancora la malattia metastatica, 56 mesi di mediane sovrabbrezze. R2 era un marcatore di proniosi scadente, adesso è diventato un marcatore di opportunità di trattamento. 56 mesi, sono ancora 5 anni di malattia plurimetastatica a visce in questo caso, soprattutto. Prossimo, ma ci abbiamo una grossa innovazione oggi, questa magic palette, come dicono gli americani, questa fallotta la magica, cioè avere un farmaco disegnato che porti la chemioterapia all'interno della cellula e costituito da un anticorpio monoclonale che è in grado di riconoscere la cellula, un linker inerte, ponti di zucchero, che legano un farmaco che rilasciano solo all'interno della cellula. Andiamo avanti, vedete dal meccanismo specifico, ancora avanti, come di fatto questa molecola riconosce la cellula neoplastica, viene internalizzata all'interno della cellula, libera solo all'interno della cellula neoplastica la chemioterapia, la chemioterapia uccide la cellula neoplastica e con effetto paestandere anche le cellule vicinore. Selettiva al massimo, selettiva al massimo, quindi con un grande risparmio di tossicità per altre. Questa è una questione di ingegneria, diciamo, costruttiva di farmaci veramente notevole. Il tumore della mammela, questo è il primo che ha funzionato, il tumore della mammela, ci sta espandendo moltissimo anche in altri risparmi. Prossimo ancora. Il trasluccio alle ruxican è quello più potente al momento e questo farmace ancora, vedete dalle curve rispetto ai farmaci precedenti, riesce in qualche modo a migliorare ancora avanti la sopravvivenza delle pazienti e quindi migliorerà sponderà anche con il muro dei cinque anni, ma questo lo sapremo fra qualche anno e appena in commercio, ma le grandi istituzioni l'hanno tutta avuto già da un anno o due anni e lo possono sperimentare anche ancora. Nelle triplo negative è un po' l'aspetto critico, cioè quelle pazienti per le quali noi non potevamo assolutamente consigliare terapie, se non la chemioterapia, ma con grande, diciamo, ansia degli stessi medici che poi vivono con la paziente o stato di malattia, questo bisogna ridurre oncologi. Prossima diapositiva, bene, abbiamo capito che i triplo negativi sviluppano un tasso mutazionale molto importante. Il tasso mutazionale vuol dire che le cellule cambiano e cambiando sono antigeni che vengono riconosciute dal sistema immunitario, un'infiltrazione linfocitaria e anche la presenza di PD-L1. Prossima diapositiva. C'eravamo sempre visti in fondo perché nei confronti della cellula neoplastica il nostro sistema immunitario non reagisce così come succede per le intenzioni, per altre, per altre malattie. Ebbene, ce lo stiamo spiegando. È vero, le cellule neoplastiche sviluppano antigeni, gli antigeni reclutano le cellule immunocompetenti, le cellule immunocompetenti aggrediscono il tumore, però poi il tumore è fatto dicendole che hanno un'evoluzione darwiniana altissima, per cui sviluppano dei recettori specifici, PD-L1, PD-L1 e PD-L1, che legano in qualche modo le cellule incompetenti e creano come se fosse uno scudo, in maniera tale che la nostro sistema immunitario non possa più aggredire. ebbene, prossima diapositiva, grazie a premio Nobel, io ho avuto la fortuna di poter assistere dal vivo a Stoccolma, diciamo, in questo e come vedete da sul cuoncio, questo è stato svelato. Vedete, questa è la barriera che le cellule neoplastiche creano nei confronti delle cellule immunocompetenti e sono recutate, ma non possono funzionare, un po' come nei film di pandascienza, quando si può aggredire un'astronave che ha uno scudo che non fa sì che le possano essere aggrediti, ebbene, con anticorpi, prossima diapositiva, che sono anti-PD-L1, precedente, anti-PD-L1 e anti-PD-1, come sa la precedente, vedete, si riesce a rimuovere questa barriera, il nostro sistema è attivo. Tutto questo è nella prova biologica, ma poi funziona nei fatti, prossima diapositiva, vediamo dagli studi in cui è utilizzata l'immunoterapia verso la chemioterapia, soltanto, andiamo avanti, si vede come di fatto, ancora, ci sia un miglioramento della scomparsa dei tumori, 60% dei tumori hanno un'attenzione del 50% della massa del tumore, prossima ancora e prossima ancora, e cerchiamo anche che la sopravvivenza migliora notevolmente, viene sfondato in una malattia che prima non aveva prospettive di cura, il muro della mediana di 25 mesi, oltre due anni siamo, ma anche mediana, come vi dicevo, ma in queste pazienti abbiamo altre prospettive, prossima diapositiva, ad esempio, per quelle che erano mutate di RCA, quelle pazienti pure non avevano inibitori di PARP, diciamo, è stato insegnito in grossi premi, tutti gli sperimentatori che hanno portato alla scoperta degli inibitori di PARP, nei contondi di qualunque che metteria scelta del medico riescono, prossima diapositiva, a migliorare, come vedete, prossima ancora, la sopravvivenza, come vedete, contro la terapia, qualunque questa sia la scelta del paziente, quindi lì abbiamo prossissimi miglioramenti, terapia ultraselettiva, perché crea una leitata sintetica proprio all'interno delle cellule neoplastiche, salvaguardando le cellule sane, prossima diapositiva. Quindi, come avete visto, in tutto questo innovazioni terapeutiche, che sono diventate lo stato, hanno cambiato completamente la storia, cioè quello che uno si aspettava dal tumore della mammella, grazie a queste terapie, per me è completamente storia, e hanno migliorato sia la sopravvivenza che la qualità di vita del paziente. Prossima, vedete da questo grafico sul tasso di sopravvivenza relativi a cinque anni, siamo passati dal 60% al 90%, questo è un management importantissimo in sanità, significa che il 90% di donne che hanno il tumore della mammella, hanno la stessa aspettativa di vita di donne, comparabile per le tante, non abbiano avuto nessuna pericolosità nei primi cinque anni, che significa che siamo di standard altissimi, voglio dire, solo il tumore della prostata riesce a migliorare questo standard, verso un canale più alto, la linea rossa che vedete, la mediana di prossima diapositiva. Ma, nelle ultime, mi voglio soffermare su un aspetto, la ricerca sta avanzando, diciamo, su fortissime tecnologie, il panorama della ricerca sta completamente cambiando e le prospettive pure sono completamente diverse. Prossima, è un modo per farvi vedere da una diapositiva quasi leggibile come l'oncologia si sta avviando verso un concetto di medicina di precessione, con tantissimi farmaci, tantissime oncologie, l'individuazione di tanti biomarcatori, la possibilità di dare la terapia adatta per ogni biomarcatoria. Prossima diapositiva. La sfida che noi ci troviamo a combattere è una sfida difficile, verso una cellula che è darminianamente molto verifica. Abbiamo già avuto nei contorni di questa sfida che l'eterogenità tumorale è prova che noi riusciamo a distinguere quella intertumorale, cioè pazienti diversi che hanno lo stesso tumore, là siamo abbastanza organizzati, ma quella che ci dà più problemi è la eterogenità intratumorale. Prossima diapositiva, dove si vede che un tumore che nasce con un clore cellulare, ma man mano che la cellula si moltiplica, sviluppa mutazione e in questo concetto evoluzionario darwiniano della cellula, sviluppando mutazioni, diventa sempre più resistente ai farmaci che noi sottolineiamo. Vedete, in tre generazioni come i fenotipi cellulari siano completamente cambiati tra gli otto. Ebbene, in questo caso, se nello stesso individuo la cellula muta, uno cosa dovrebbe poter fare? Prossima diapositiva. L'ideale sarebbe quello che si dice fai delle biopsie continue e durante le emozioni. Questa biopsia è poca certa, ma a volte si risolve da città. Abbiamo trovato un sistema di altissima biotecnologia, la biopsia liquida, prendere del sangue, assolutamente, andare sulla prossima diapositiva e riuscire a isolare dal sangue il DNA circolare, come si vede, il DNA è portatore di qualunque mutazione. Noi analizzando con altissime tecnologie questo DNA, sappiamo come è mutato, come sta variando il tumore e quali terapie non possiamo eventualmente dare in quel setting, in quel tempo specifico, nello stesso caso, prossima diapositiva. E inoltre si sta sviluppando tempo di più bioinformatica e intelligenza artificiale, big data, lo dicevano i nostri moderatori all'inizio, che le tecnologie di PNDR stanno portando queste grandi unità. E l'intelligenza artificiale dà vantaggio sia nella diagnostica per immagini, nella diagnostica marfologica, ma richiede anche che da parte clinica vi siano i cosiddetti records elettronici dei pazienti, che siano nello stesso pollo. L'ideale sarebbe, siccome la nostra regione, che tutte le strutture possano un ospedale e-virtual comune per tutti per poter agire. Perché solo in questo senso, prossimo diapositiva, noi potremmo pare che l'intelligenza artificiale, utilizzata su una grossa massa con l'analisi dei big data, potrebbe portare miglioramenti diagnostici, la spiace molecolare nuove, risposte al trattamento, assolutamente adeguati. Prossima e l'ultima diapositiva, e questo mi dà il senso di come stiamo andando. Siamo partita per la diagnosi, l'istopatologia, siamo alle EGS oggi, che ci può vedere i singoli tumori, come mutano all'interno. Da un concetto un po' iniziale al modello matematico di resistenza di Colby-Coldo, ma quando studiamo noi, oggi siamo al modello d'ardiniano evoluzionario della ceriume, che vanno ad essere studiate dal punto di vista di profili molecolari genetici. Dalla chemioterapia, alle terapie biologiche, alle terapie biologiche, diciamo, combinate tra di loro a seconda delle patologie che sviluppano la crescita. E dagli studi caso controllo, agli studi di fase 3, agli studi specialmente nel tumore raro, che dovrebbero essere direttamente dal laboratorio di sintesi del farmaco, a portarlo nella realtà, a dire tutti che le industrie sono poco motivate a sviluppare farmaci per immobiliare, dovrebbe essere soprattutto l'accademia a sottire con questo. Una in conclusione che voglio dire è che la complessità dell'oncologia che è veramente, le tecnologie sono ad altissima, diciamo, avanguardia. Oggi avremo bisogno di investimenti notevoli per poter essere competitivi con gli altri paesi, con gli altri paesi europei, con gli altri paesi, diciamo, oltre c'è, non basta pensare gli Stati Uniti che hanno sviluppi e investimenti veramente suaventusi. E soprattutto nelle regioni del Sud, anche un investimento dal punto di vista di, diciamo, delle varie strutture della raccolta. La rete oncologica campana ha fatto tantissimo. Siamo in campagna con una delle reti più evolute che ci sono, però questo non significa che abbiamo la rete autolattice. Adesso siamo su uno standard omogeneo, l'etità di cui avevano bisogno dell'esplopo tecnologico e questo implica risorse. I PNRR sono, diciamo, studiati essenzialmente per potenziare le strutture, per acquistare le tecnologie, ma lasciatelo dire da docente universitario, quello che conta il materiale umano, ci vorrebbero investimenti anche sulle persone, formazione adeguata sulle persone, che se vogliamo sfruttare al massimo tutte queste tecnologie, ci vuole un piano nutrivole di investimento e solo con quello noi possiamo garantire alle nostre pazienti le stesse aspettative di cura che hanno dei paesi di grande sviluppo come gli Stati Uniti o altri che si stanno correndo in questo senso. Grazie. Grazie, grazie davvero al professor De Placido che è riuscito a mettere a poco tutti gli elementi che rendono complessa questa partita delle cure oncologiche, dove questo esempio dell'evoluzione darwiniana delle cellule che si contrappone al nostro sistema immunitario rimanda ad una battaglia che solo attraverso l'innovazione tecnologica siamo in grado di di poter fronteggiare. Eh a proposito di investimenti che servono per tenere il passo di queste innovazioni, della necessità eh che anche le regioni del sud sebbene sfavorite nel tema delle diseguaglianze proprio in queste ore viene discusso al Senato eh con un libro di Rosetta Papa che è una dirigente del eh dell'AS Napoli uno che ha scritto un libro su questo tema eh ci porta a definire quali devono essere eh le eh gli strumenti di programmazione per venire a capo di questo eh di questo elemento di di eh spavore se possiamo dire così e e di come eh eh utilizzare anche in maniera eh proficua fondi che vengono dall'Unione Europea che come ha detto giustamente il professore De Placido per quanto riguarda il PNRR sono mirate all'acquisto eh di apparecchiature e a un piano e di edilizia che rischia di diventare spopolato di eh professionisti di eh di ricercatori di personale che eh strutturalmente dovrebbe essere assimilato per far funzionare poi queste articolazioni della sanità pubblica. Eh tutto questo eh impegna la politica a trovare gli strumenti per impiegare nel miglior modo possibile questi fondi perché capite bene che diventa estremamente eh quasi un un boomerang impiegare poi dei fondi così ingenti di cui solo una parte peraltro a fondo perduto ma comunque sebbene a tasso agevolato da restituire poi al all'Europa eh questi fondi andrebbero eh in qualche modo a pianificati incrociando un piano per eh eh popolare queste strutture eh di personale e formarlo eh in maniera altamente qualificata per poi raggiungere dei risultati eh io su questo chiamerei subito il eh dottor Francesco Colasuonno che è responsabile di farmaci e dispositivi eh se è riuscito a collegare allora se riuscite a collegare la chiamiamo abbiamo chiamata prima la po' pomeriggia a tutti su eh Zoom Ismaele Lavardera che è deputato della Sedea regionale siciliana. Allora posso? Prego prego. Ma non sento bene mi scusi? Posso? La sentiamo benissimo. Ah buon pomeriggio a tutto. È un un buon pomeriggio parlare veramente ottimo. Siamo che portiamo a casa del di un ottimo risultato di compromesso. Quindi buon pomeriggio. Dottor Colasuono Regione Puglia. Sezione parla. Prima chiedo scusa il dottor Colasuono e poi dopo facciamo intervenire eh Ismaele Lavardera. Grazie. Prego. Posso allora? Prego prego. Posso condividere lo schermo? Sì sì. oggi pomeriggio quindi un ringraziamo tutti noi la faccio anche per tutti per tutti i relatori la questa bellissima iniziativa Onco On Action Stati Generali quindi giustamente mettere a confronto Campania, Marche, Puglia, Sicilia. Quindi grazie per questo confronto ehm un ringraziamento qui da segreteria organizzativa, segreteria scientifica e al 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 moderatore di questa di questa chiacchierata eh pomeridiana sulla cronocizzazione e sostenibilità economica per quanto per in merito alla patologia oncologica. Ehm metto un attimo ecco qua. Quindi abbiamo queste nuove innovazioni tecnologiche stanno allungando partiamo da questa diapositiva stanno allungando la vita media della popolazione mondiale e vedete che con la quarta rivoluzione lo chiamata la quarta rivoluzione scusate la quarta rivoluzione industriale tramite questa digitazione e big data con adattamenti real time vedete abbiamo come la 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 questa una fonte Hilbert del duemil e di dici sette vediamo sta allungando la vita media della nostra popolazione infatti insieme la scienza ricerca industria tecnologia io ci metto la clinica da parte di specialisti e la parte diciamo sulla proprietà prescrittiva sull'aderenza anche del farmacista ospedaliero e o territoriale vediamo che stanno allungando insieme la vita la vita vedete la vita è di italiani infatti negli ultimi cinquant'anni in Italia la mortalità è veramente molto diminuita e tra me è diminuita e la spettativa di vita è crescita di un mese o di quattro infatti l'Italia noi molte volte non parliamo bene del nostro sistema sanitario nazionale invece dico che l'Italia figura il più imposto al mondo la lunghezza dell'abitamento grazie alla nostra qualità nel sistema sanitario nazionale vedete che con la FODE ISTAT del 17 abbiamo un meno che di 3% la mortalità in Italia nella questa variazione percentuale degli ultimi dieci anni quindi ho messo in evidenza i tumori maligni della trachea droghi polmoni meno o meno 13,7 tumori del colon e retto e ano meno 13,8 sono i numeri questi tumori maligni del seno meno o meno del 13% ed abbiamo una media del meno di 3% tutto questo sono i trattamenti farmacologici vedete tra esigenze cliniche quindi lo specialista secondo la scienza e coscienza deve deve trattare il paziente nel migliore modo e prescrivere il barbaco però trovando un modo sulla esigenza sulle esigenze economiche infatti una delle sfide che le autorità regolatorie del barbaco a livello sia a livello europeo sia a livello di nazioni e quindi AIPA in Italia è si trovano ad affrontare ed è quella di garantire ai pazienti un accesso rapido a questi nuovi farmaci che chiamo nuovi farmaci ma sappiamo tutti che si sono sono stati come vengono commercializzati dall'AIFA sia i nuovi farmaci sia i farmaci innovativi vediamo che sono i farmaci innovativi quindi abbiamo due termini diversi nuovi e innovativi ma tutto questo garantire la successività economica e la governance del sistema infatti la politica della salute sta portando molte volte al rischio quindi a il sistema sanitario la spesa farmaceutica molte volte se ne parli in tutti i giornali tutte in tutte le in tutto in tutto che devo dire in tutte le testate giornalistiche il rischio è quando di non avere le risorse dovuto a vari fattori nel cittadino solo alcuni per motivi di tempo il veicolamento colazione l'introduzione di commercio di questi farmaci innovativi l'aumento delle patologie cronici è la comorbidità infatti con la legge due tre due di 2016 legge di bilancio di finanziario 2017 vediamo che sentiamo diciamo numeri che sono cambiati i tetti di spesa vedete ricordate 2016 erano improponibili in questi tetti di spesa e l'uncettacinque per cento era la convenzionata 3,5 per cento era gli acquisti diretti vedete come si è cambiato tetto da spesa a cui si è detto abbiamo il 689 per cento 796 per cento per quanto riguarda gli acquisti della farmaceutica convenzionata però nel 2016 quindi nel 2007 anno di finanziario sono stati messi a rimborso alcuni due fondi importanti per la cui vedete l'acquisto dei medicinali innovativi oncologici e l'acquisto di farmaci innovativi non oncologici in infatti con la con l'ultima legge la 234 del 2021 legge anno finanziario 2022 finalmente abbiamo una è stato è stato è stato rivisto sono state riviste i tetti di spesa finalmente abbiamo l'otto per cento per gli acquisti diretti 7 per cento quindi quello 0 15 7 per cento convenzionata al 2024 avremo il 15 7 per cento convenzionata 15 e 30 per cento a decorre del 2024 per gli acquisti diretti la spesa farmaceutica nella come spesa pubblica e privata nel 2021 pubblicato vedete rapporto osmet il 29 luglio del 2022 la spesa è stata pari però c'è il 32 di 2 miliardi di euro in aumento vedete del 3,5 per cento in delta eh verso il 2020 l'Italia vedete sulla convenzionata abbiamo la spesa netta in milioni di euro 7.582 milioni di euro per la convenzionata la Puglia si attesta su 542 milioni ma il primo il primo ehm una prima riflessione che bisogna fare vedete sia sia in base alla popolazione però vedete tra il nord e centro e sud che la fatta padrona è il la la spesa della convenzionata al nord in 3.285 quasi la metà in tutta rispetto al centro eh il sud sulla spesa per le consumi e spesa per quanto riguarda gli acquisti diretti abbiamo l'Italia 13.833 dalla Puglia si attesta sui mille e migliori di euro i farmaceutici neoplastici vedete rappresentano la prima categoria terapeutica tanto pubblicato sui rapporto Osberg a maggior spesa pubblica per il 2020 pare a circa 6.680 milioni di euro vedete il 28.2% della spesa totale per quanto riguarda la 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 farmaceutica e vedete che negli ultimi anni la spesa per le farmaci oncologici è quasi raddoppiata passando dal 2014 da 34,8 il costo medio a 68.2 con un trend vedete da 10,9 nel 2014 a 18,1 nel 2021 dei 68.23 la spesa pocapite Italia 2021 vedete la percentuale il detta percentuale 2021 versus il 2020 4,6 i 68.3 pocapite la fanno da padroni i farmaci dal Pembrolizumab al palpociclin a 1,86 euro 2021 versus il 2020 la spesa procapite 68.23 avevamo nel 2020 65.27 e le DDD sui mili abitanti abbiamo abbiamo nel 2021 10.3 diciamo le dose definite del per mili abitanti a confronto al 2020 di 10.2 la spesa con l'ultima comunicazione che AIFA 10 con la con la riunione del CDA dell'AIFA del 10 novembre 2021 monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale regionale nel periodo gennaio giugno per capire come possiamo spendere come poter curare i pazienti perché se siamo qua per questo confronto è perché abbiamo al centro il paziente abbiamo quindi noi a livello regionale le ASLE con gli specialisti i farmacisti per non cercare però di monitorare questa spesa farmaceutica c'è una legge preposta a questo dal 222 nel 2007 che l'AIFA effettua un monitoraggio mentire e tutto questo monitoraggio viene poi comunicato alle tutte le risultanze sia al Ministero della Salute che al MEP. Ecco qua questa è l'incidenza della spesa al 7% per la convenzionata e la Puglia ahimè ancora oggi fino a maggio 2022 non riesce a stare nel tetto di spesa del 7% come alto dei giorni perché siamo qua per un confronto e capire dove come possiamo poter noi cercare di non contenere la spesa ma una maggiore appropriatezza prescrittiva e secondo me ce la facciamo perché vi porto velocemente questa è la spesa del 4% per esempio in Puglia ecco qua per quanto riguarda la compartecipazione che cos'è è l'eventuale differenza tra il peso al pubblico e il peso di riferimento dei farmaci a prevetto scaduto uno vi vorrebbe farebbe una domanda sinceramente dice ma perché noi parliamo di convenzionata e di una quota di compartecipazione perché secondo noi parte di qua la cultura prescrittiva parte dal dal da tutti di stakeholder quindi di tutti i medici specialisti medici vicino generale sulla prescrizione di farmaci a prevetto scaduto e vi porto un esempio vedete sulla parte destra c'è la classifica delle regioni italiane ordinata per popolazione residente aggiornata al primo gennaio 2022 la Puglia è più o meno come l'Emilia Romagna Piemonte Toscana più meno diciamo gli abitanti di popolazione siamo 4 milioni e 4 3 milioni e 6 Toscana la Puglia è al 100 quindi con 3 milioni e però la quota di copartecipazione gennaio giugno 2022 versus gennaio giugno 2022 ahimè è il doppio 65 milioni e 450 rispetto al Piemonte con 31 milioni siamo al doppio quindi in basso alla popolazione noi abbiamo una maggior prescrizione di farmaci non equivalenti e quindi il messaggio che si vuole dare è se risparmiamo sulla convenzionata possiamo dare maggiori risorse fresche dalla convenzionata passando verso gli acquisti diretti noi abbiamo un buon sistema edotto con questo sistema riusciamo a valutare la prescrizione farmaco per farmaco ospedale per ospedale territorio per territorio con questo cruscotto direzionale della farmaco che abbraccia dal 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 rapporto ospedale vedete alla legge di stabilità al sistema tessi quali sono gli strumenti messi in campo dalla regione puglia per la stessa farmaco che ho menzionata ho detto per un giro di tempo metto soltanto cito soltanto quella al la provatezza prescrittiva e in grassetto soprattutto è quella che devo cercare di spingere maggior la provatezza prescrittiva maggior aderenza alla terapia maggior dispensazione prescrizione in puglia sul primo ciclo di terapia strumenti per quanto riguarda gli acquisti diretti quindi soprattutto tramite stiamo implementando le gare centralizzate gare ponte anche con altre regioni ad esempio con la regione con la regione piemonte siamo partiti partiti per poter curare per poter poter assicurare la le terapie a tutti i pazienti vedete che abbiamo siamo partiti con la 983 del 2018 dovevamo farmaci a maggior impatto su questi diretti effettuati dal sistema dal dalla dalle sistemi dal enti pubblici del sistema sanitario regionale del 2017 vedete mettiamo parecchio dalle neoplastici avevamo 179 milioni di euro fino alla all'antimicotici a 9 milioni di euro i provvedimenti regionali sono passati quindi dalla 983 sulla la 216 sul sul contenimento della spesa e della prescrittiva dei farmaci biotecnologici sui farmaci a prescrittiva per quanto riguarda i farmaci a base di rituximab e trastuzumab i farmaci anche a base di bevacizumab noi sappiamo che sono questo questo principio attivo serve diciamo viene utilizzato per tante patologie come come in ultimo quella dell'aprile 2022 a 501 farmaco diciamo interventi volte di incrementare senza prescrittiva sui farmaci a base dei precipitativi su l'ipinib e l'inalidonide noi stiamo cercando di collaborare quindi i vari stakeholder a livello regionale vedete questa è una nota che abbiamo emanato il provvedimento a gennaio 2022 dove abbiamo cercato di poter diciamo aiutare dialogare con i farmacisti e con specialisti soprattutto per i trattamenti poter chiudere i trattamenti che non dove non è ancora da essere inseriti una richiesta di rimborso trattamenti che erano sospesi da più di 520 giorni trattamenti con dispensazione molte volte per motivi anche non di molte volte di distrazione venivano vengono molte volte chiusi con dispensazione parazie e questo ha portato un altro risultato alla regione prima infatti vedete questo è sempre sono la le rimborsi ottenuti per mea online anni 2017 2021 pubblicato nel rapporto osbe da ipad e napugna vedete abbiamo un imborso nel 2021 nel 2021 abbiamo la spesa nel 2021 di circa un imborso ottenuto nel 2021 vedete rispetto al 2020 e al 2019 abbiamo ottenuto rimborsi mia circa a 12 milioni di euro che la fanno anche siamo quasi al secondo posto dopo la lombardia mettete qua la densità di popolazione abbiamo raggiunto quindi questo è un primo dato anche macro fa capire che ci sta meno mobilità quindi mobilità passiva quindi finalmente i pazienti stanno cercando di restare in pubblica per essere per avere la miglior terapia su determinate patologie in questo caso di oncologia ultime misure urgenti quindi vado a concludere per la regione puglia abbiamo la 314 per quanto riguarda la relativo al contenimento della spesa per acquisti diretti dei farmaci la 132 per quanto riguarda la spasistenza farmaceutica convenzionata e infatti con la 132 dove poter risparmiare per poter sempre curare con il miglior farmaco anche oncologico vedete siamo ancora fuori in alcune in alcuna rispetto alla media nazionale dei dvd esempio vi faccio esempio sui farmaci anti impiammatorie ancora abbiamo una una media superiore delle dvd di circa 60 per cento rispetto alla media nazionale e ne cito solo alcuni ma abbiamo gli antimicodici la vitamina d gli antitrobotici i farmaci per inibitori di pompa protonica tutto questo viene pubblicato tutti i nostri provvedimenti partendo dai provvedimenti covid al provvedimento sulla farmacia e servizi vengono pubblicati su puglia salute operatori farmaci e dispositivi steve walking il futuro l'utile ed il funzionale per garantire risposte concrete bisogni dei pazienti l'intelligenza diceva steven walking è l'abilità ad adattarsi ad un cambiamento su questo vedete lo ha fatto il ministero lo ha fatto l'aifa cambiando i tetti di spesa quindi lo possiamo fare anche noi cambiare la nostra cultura diciamo molte volte prescrittiva sempre lasciando al medico specialista c'è con la scienza e coscienza la relativa prescrizione e quindi diceva steven walking il contatto di guardare le stelle e non i vostri piedi per quanto difficile possa essere la vita c'è sempre qualcosa che possa fare in cui si può riuscire grazie sono stato un po veloce grazie pronto e passiamo rapidamente dopo questa carrellata di dati che ci fa riflettere so prima avevo annunciato la il collegamento ismaele lavardera deputato dell'assemblea regionale siciliana e entro le quattordici e trenta dovrebbe raggiungersi raggiungerci su zoom francesco emilio borrelli parlamentare nonché consigliere regionale della campania che appunto interverranno per i saluti istituzionali istituzionali prego lavardera no si è nel frattempo si è collegato e vi entrerà subito dopo per cui io procederei con il collega della regione campania il al posto si al posto di ugo trama che è responsabile delle politiche del farmaco della regione campania abbiamo una sua stretta collaboratrice francesca futura bernardo dottor tramati scusa per non essere potuto insomma venire qui tra di voi ovviamente ho visto la letra di dati che ha mostrato il collega con la sonno della regione buia e diciamo che come regione campania nell'ambito oncologico noi possiamo vantare del professore di placido davanti a me della rete oncologica campana che nelle sue compagini dei gruppi oncologici multidisciplinari le istituzioni dei corpi corpi dei corpus consente una presa in carico del paziente in maniera importante peraltro siamo stati antisignali per la presa in carico e la regione con il territorio e dal 2017 insomma che questa regione cerca proprio di ricongiungere il patente oncologico la prevenzione gli screening nonostante le annose difficoltà oggi con il dm 71 prima e con il dm 77 proprio in questi giorni ci sta definendo un po' quella che è la nuova frontiera quella del territorio delle farmacie di prossimità stabilitariamente presenti con i programmi di screening che passano dalle farmacie di comunità le farmacie convenzionate che consentono appunto di dare in maniera macroscopica un'indicazione su quello che dovrebbero essere i punti dello screening rispetto alle patologie oncologiche più infattanti nella nostra regione c'è poi ovviamente l'intercettazione appunto del paziente oncologico che viene preso in carico nella regione oncologica ci sono appunto delle schede che in maniera quasi tempestiva soprattutto per farmaci innovativi farmaci di seconda e terza linea vengono valutati dalla commissione veramente contemplisti che credo non abbiano quasi insomma commissioni parimenti in altre realtà regionali riescono poi a gestire questi patienti che sono ingravescenti che non hanno alternative aspettative di vita se non con questi farmaci innovativi c'è poi un'altra commissione che in questo periodo di tempo forse fa fatica ad incontrarsi per diverse compressità nella gestione soprattutto dei test ed è il tumor molecoli a bordo dove ci sono appunto esponenti della rete oncologica che accompagnati da quelli che sono esperti nei test genomici genetici per appunto farmacogenetica, farmacogenomica e terapie di ultima generazione che hanno dei target molecolari, dei target test di predisposizione appunto genetica del paziente, di genomica, possono essere valutati dalla commissione che sta lavorando anche per capire come gestire in maniera economica questo costo importante dei test genetici ed ecco che insomma questa è la fotografia della nostra regione al netto di quanto ha mostrato il contesto pubblico della regione Puglia che è il quadro della rimborsabilità e dei prezzi. Per quanto riguarda poi il leader burocratico direi che anche noi abbiamo un sito su cui pubblichiamo le nostre note, i nostri pareri appunto decisioni collegiali da commissioni. Ecco rispetto a questo volevo chiedere la regione Campania si sta configurando come la punta tra le regioni del sud che sui tavoli romani rivendica un utilizzo delle risorse in maniera anche più equa. C'è da dire che dei fondi diciamo della legge di bilancio dei fondi diciamo dei due miliardi di euro in più messi nel piatto un miliardo e quattro se ne andranno come maggiori costi per l'energia e in parte per i rimborsi covid e ci saranno circa 650 milioni per diciamo accompagnare i rinnovi contrattuali, i costi del personale, il nodo del personale anche in campagna diventa centrale, prima il professore De Placido lo ha accennato. C'è poi il tema del PNRR quindi di un uso delle risorse anche ai fini di un'implementazione che abbia un risvolto concreto nei riguardi della salute pubblica laddove oggi questi fondi restano un po' confinati in un in un utilizzo che fatte salve le apparecchiature quindi lo svecchiamento delle apparecchiature che in un piano triennale possono dar luogo appunto ad un acquisto rendicontato e quindi rimborsato per il resto l'incidenza di di questi di questi sette e otto miliardi di euro del PNRR eh si configurano quasi come uno spreco alla fine. Allora eh per la considerazione eh devo restare ovviamente su una finale neutrale perché non mi occupo di bilancio eh sono qui mh insomma per quanto riguarda la farmaceutica e dispositivi medici ecco riprendo solo un punto di quanto lei appena eh rappresentato ed è la questione dell'equità di accesso come politica del farmaco e dispositivi con il dottore Trama noi abbiamo affrontato la tematica dell'accesso alle cure con appunto una commissione che di concerto sicuramente con la rete oncologica ma anche con gruppi multidisciplinari per altre patologie croniche ehm impattanti sul nostro territorio regionale ha definito proprio un approccio a quella che eh la prestazione farmaceutica con un fruttuale che ci consente anche di essere la prima regione con più alto numero di farmaci eh erogati in classe C non negoziata che di netto dal dagli usi compazionevoli dall'expanded accesso possono essere brevi nel in quel periodo insomma limitati tra il parere della commissione tecnico scientifica dell'alba e la commissione prezzo e rimborso siamo quelli che garantiscono una prestazione e l'erogazione di una cura e quindi cerchiamo di eh colmare delle vacanze che ci sono in quel periodo eh per i farmaci per i dispositivi e anche lì una tematica che stiamo affrontando a tappi e pari per definire anche quelle che sono le nuove le nuove ordinamento della dispositivo vigilanza e quindi non solo l'equità di accesso al ricorio ma anche un monitorato sulla sicurezza di nuove terapie che non comprendono soltanto la farmacia. Per il PNRR proprio mh nella giornata di domani ci sarà un incontro con le direzioni generali e con appunto i decisori per definire alcuni punti della prossima di risposta sicuramente dal punto di vista economico è complesso soprattutto per quanto riguarda il personale il 31 dicembre che vedrà una nuova sfida che per questo momento non aspetta bene grazie posso una una piccola osservazione perché i due colleghi la dottoressa e il collega pugliese hanno non so se ve ne siete accorti ma hanno centrato un problema grandissimo è quello della sostenibilità perché il nelle tante immagini tanti dati che ha passato con la donna nelle sue diapositive ce n'era una non so se avete visto è proprio passata velocemente però eh ma ma colpito perché è la tabella AIFA eh in monitoraggio gennaio maggio duemilaventidue acquisti diretti in cui per la prima volta in assoluto è tutta rossa voi sapete tutte le regioni in realtà guardi fa anche sorridere perché per esempio noi facciamo molti costi eh anche da bocconi insomma lo chiamano proprio il bagno di sangue ma non è non è la prima volta che è tutto rosso per dire la verità no no ma è tutto rosso in tutta Italia perché di solito si salvava le province autonome di Trento di Bolzano e forse la Val d'Aosta perché eh fa tutto il Piemonte ecco per cui questa volta invece lì siamo tutti rossi e quindi eh questo lui eh dice tanto perché un 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 antenna un evento sentinella che ci dice il problema della sostenibilità si deve confrontare con eh tutte queste anche innovazioni hanno effettivamente un eh il loro costo non solo in oncologia anche se come ci ha dimostrato il costo più grande però mi ha fatto piacere anche la risposta perché qui oggi stiamo a parlare di come mettere a valore questo lei è detto da una farmacista è importante eh perché ha dimostrato di essere dentro quell'organizzazione più vasta è la rete oncologica in cui anche la funzione della rete indirizza oltre verso l'equità ma anche molto probabilmente verso un uso più preciso più eh oculato ma non oculato nel senso di risparmioso e cosa ma più appropriato se vogliamo dire così non volevo usare una parola talmente abusata ha perso il suo significato perché non ci si fa nemmeno più caso però questi due aspetti c'è una chiamata all'attenzione ma c'è anche una risposta che ha dato lei proprio sul anche gli strumenti per cioè la rete oncologica non è solamente una libera associazione di eh professionisti o di istituzioni per il piacere di trovarsi per condividere alcune cose per far qualcosa ma danno una risposta anche concreta e lì ci dovrebbe essere poi il risultato e non vuol dire di diventare eh celesti invece che rossi ma vuol dire anche fronteggiare quello che è un incremento che comunque è verostimile e ci sarà che eh molto probabilmente chiederà anche delle revisioni dei tetti quindi grazie del peraltro è appunto la problematica anche dovuta ai farmaci innovativi perché come penso avrà rappresentato noi abbiamo la questione del fondi innovativi oncologici non oncologici quando AIFA nella CTS da il criterio di innovatività per trentasei mesi noi abbiamo l'accesso diretto al prontuario terapeutico la decisione collegiale che identifica il centro prescrittori e questo sgrave economico di trentasei mesi la vera sfida è capire dopo quei in cui fatidici trentasei mesi come si va poi a gestire questa terapia l'innovazione è un periodo ponte che però ci deve dare anche un margine di programmazione. Il rosso di ora molto probabilmente è il risultato dei fondi precedenti. Certo è che la parte nel centro pubblico privato potrebbe essere auspicabile in questo periodo in questo tempo anche per aziende farmaceutiche che possono farti fuoriere appunto di una prestazione di un servizio più solo che più ormai solo del farmaco. Un ultimo dato darei che questi sei centocinquanta milioni in più in più dati sul bilancio duemilaventitré per bollette vaccini e farmaci sembrano fortemente sottostimati rispetto al fabbisogno e questo al di là diciamo poi di quello che si può programmare sulla spesa delle regioni perché eh la coperta rimane molto corta. Assolutamente. Ok. Grazie. Grazie. Grazie alla eh dottoressa Bernardi. Io eh in attesa che concludiamo questa prima parte del eh del convegno su di on connection ehm vorrei sollecitare anche il professor De Placido e gli altri a lanciare eh diciamo una una sorta di di sintesi rispetto alla eh a questa prima parte in attesa che poi si colleghino Borrelli e Lavardera. Sono collegati. Sono collegati allora subito la parola a Lavardera subito dopo a Francesco Borrelli. Ricordiamo Ismaele Lavardera deputato dell'Assemblea regionale siciliana e Francesco Emilio Borrelli che è eh consigliere regionale nonché deputato del parlamentare. No non sono io Borrelli. La parola la vediamo. Forse non ci sente se. Può intervenire. Deve attivare il micro. dieci minuti. Prego si può collegare. Intanto saluto Francesco Emilio Borrelli che mi capito pronto. Vabbè se iniziamo con eh con Francesco Borrelli prego Francesco. Allora innanzitutto grazie per l'invito io cerco di essere sempre presente ma eh capirete che in questi giorni mi è più complicato del solito ehm soprattutto perché sto seguendo la tragedia e le vicende del di di casa Micciola del dell'isola Dischia ehm che ovviamente non hanno attinenza con quello che fate se non su una parola la prevenzione in realtà questa parola magica che sembra banale e sembra quasi scontata per tutti non lo è perché come avviene dovrebbe avvenire nel malattia nel nel contrasto alle malattie oncologiche così dovrebbe avvenire per tutta la vita del nostro sistema e come ho letto nelle varie cose che mi sono state inviate che la cura del proprio corpo la cercare di fare una sana alimentazione di fare un po' di attività fisica possono essere degli elementi preventivi non sono la certezza ovviamente di non ammalarsi così avviene per il nostro territorio e io vi dirò una cosa che ho già detto una volta però la voglio ribadire voi siete l'unica realtà che continua insistentemente e meritoriamente a fare iniziative voglio ringraziare anche il collega perché io sono una sola cosa sono orgoglioso nella vita e di essere un giornalista professionista come diceva un collaboratore eh del mattino il quotidiano per il quale scrive Ettore Mautone un giornalista giornalista cioè nel senso ehm eh di continuare a svolgere una attività di eh divulgazione di confronto di approfondimento di stimolo per cercare di affrontare dei temi che certe volte sono addirittura nascosti abbiamo parlato l'altra qualche settimana fa del problema della psoriasi che è un tema che vuol dire sembra un tabù come anche la malattia oncologica e qua voglio concludere il mio intervento il mio indirizzo di saluto dicendovi questo il malato molto spesso e vuol dire l'abbiamo vissuto col covid paradossalmente in cui praticamente in un primo momento il malato di covid sembrava un appestato poi abbiamo capito bene che la malattia poteva essere contrastata che c'erano delle metodologie e poi si arrivava al paradosso in alcuni casi di alcune persone hanno preso molto superficialmente questa malattia in realtà la giustezza la correttezza nell'operare è nel mezzo cioè nella capacità di saper vivere secondo delle regole e quindi cercare di evitare eh di stressare o di sottoporre il nostro corpo a eccessi e dall'altra parte conoscere e farci seguire da ehm la medicina la medicina che ci che possiamo seguire in termini generali anche per fortuna grazie a convegni divulgativi e tramite internet in alcuni aspetti piccoli e banali quando si va nel serio ovviamente si va da chi è specialista eh però se tutti seguissimo delle minime regole a partire dalla politica a partire dalla politica che si capisse che ascoltare e condividere e riflettere sul lavoro che viene fatto anche di divulgazione di tante realtà eh mediche e associative può essere fondamentale probabilmente molti dei problemi che viviamo nel settore della sanità fatto salvo eh ovviamente i limiti che ci sono molto spesso nel sistema sanitario nazionale eh li eviteremo e qua vi concludo facendovi raccontandovi un piccolo aneddoto di vita vissuta il mio medico di base mi sembra che già una volta ve lo raccontai il mio medico di base che adesso è in pensione quindi l'ho dovuto cambiare una volta mi posai il cavalletto del scooter sopra al piede e praticamente senti come una specie di scrocchio in cui pensai mi ero rotto un mignolo lo chiamai e dissi che faccio vado al pronto soccorso e lui mi disse no per ora non andare sopporta il dolore aspettiamo per vedere se il mignolo è diventato di colore nero purtroppo la sera dopo mi faceva male il mignolo mi diventò nero e lui disse sempre a questo punto anche se io sono contrario vuol fare e così via visto che soffri un male cane va al pronto soccorso andai al pronto soccorso aspettai qualche ora per farmi fare la la visita e così via però alla fine non era niente di grado perché vi dico questo perché quel medico di base aveva la cultura dei per me dei bravi medici di base cioè lui ha ragionato fino all'ultimo per non mandarmi in una situazione che non riteneva mi si fece mandare pure la foto pensate non riteneva talmente grave da ingolfare il pronto soccorso che molto spesso viene eh eh saturato vengono saturati da chi casomai a codici verdi o cose che non meritano eh l'arrivo in pronto soccorso ecco da questo punto di vista se partecipassimo e se avessimo una classe dirigente sempre molto attenta a evitare scelte avventate probabilmente oggi il sistema sanitario con delle piccole limature andrebbe già molto meglio grazie 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 a Francesco Borrelli grazie per il suo intervento e contributo e torniamo a invitare Ismaele Lavardera deputato dell'assemblea regionale siciliana che prima abbiamo visto collegato prego mi sentite? Ecco io perché poco fa non avevo capito adesso la sentiamo benissimo che poco fa non avevo capito insomma che dovevo parlare tanto grazie per l'invito ehm ovviamente sono appena uscito dall'assemblea siciliana e ho incontrato il caso volte eh degli operatori sanitari che insomma purtroppo non stanno passando un buon momento vale a dire tutti quegli operatori sanitari che sono stati impiegati per il periodo di pandemia eh che adesso il trentuno di dicembre rischiano di andare a casa i cosiddetti eroi abbiamo chiamati così perché ovviamente lo sono stati però purtroppo stanno ricevendo un ben servito dalla politica che non fa onore appunto alla a quello che hanno fatto a quello che hanno contribuito in uno dei periodi più complessi. Per quanto mi riguarda noi abbiamo eh ci siamo insediati praticamente eh da circa un mese le commissioni sono state appena eh in qualche maniera diciamo eh hanno hanno iniziato i lavori domani ci sarà la prima linea di commissione eh e ovviamente io ho accettato insomma di eh poter venire nella speranza che ci siano anche occasioni di potervi incontrare di persona visto che mi pare di avere capito che voi siete in questo momento in presenza su Palermo eh dove dove se a Napoli siete però se avrete occasione esatto se avrete occasione insomma di eh di passare dalla Sicilia sarà 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 ben lieto insomma di incontrarti eh per quanto mi riguarda insomma avere maggiore attenzione a un canale istituzionale per poter ascoltare tutte quelle che sono le vostre esigenze questo è quello che è il mio percorso io prima di fare il deputato fondamentalmente ho fatto la mia vita il giornalista e mi sono occupato di inchieste mi sono occupato anche a volte eh di eh mala sanità e quindi diciamo ho eh a cuore il tema perché purtroppo in modo particolare nel sud del nostro paese nel mezzogiorno del nostro paese in Sicilia in modo particolare abbiamo delle situazioni particolarmente drammatiche basti pensare a regione dell'entroterra che eh nei paesi sperduti purtroppo non hanno nemmeno i presidi ambulatori di primo eh livello quindi insomma una situazione complessa e cercheremo in qualche maniera noi siamo opposizione in questo momento al governo Stefani cercheremo di fare una posizione costruttiva affinché il diritto alla sanità venga tutelato e garantito è un po' questo insomma il nostro percorso eh e faremo di tutto insomma perché questo avvenga eh per quanto mi riguarda insomma io ci sono punto di vista di decisione per qualsiasi insomma esigenza che possiate eventualmente insomma incaricarvi a bene la ringraziamo molto sia per la disponibilità sia per la sua testimonianza scusatemi per il ritardo nel collegamento e insomma spero ci siano occasioni di poterci incontrare dal vivo sono lieto che da collega diciamo giornalista ci sia spazio nelle istituzioni anche per la nostra eh categoria ho fatto tanti anni diciamo le iene quindi insomma mi sono occupato un po' anche io di di temi particolarmente quindi insomma come dire oggi sono dall'altra parte della barricata ma non ho perso se mi permettete insomma quella quel guizzo di di raccontare le cose in modo anche che mi riesco. Cioè c'è molto bisogno a mio avviso grazie il titolo del tu perché da collega assolutamente. C'è molto bisogno diciamo dell'apporto anche di questo spirito eh all'interno delle istituzioni e e grazie per la per la tua testimonianza eh adesso in conclusione di questa prima fase di questa eh scorcio di 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 questa due giorni il professore De Placido ci ha raggiunto al tavolo Sabino volevo chiederti eh prima hai fatto riferimento alla complessità delle patologie tumorali prendendo come paradigma il tumore al seno con tutta una serie di diciamo eh malattie nella malattia dove non c'è più un un organo malato ma ci sono tanti tipi di di tumori che si sviluppano a carico di questa ghiandola e quindi eh l'esigenza eh sentita dai pazienti perché poi il servizio sanitario nazionale serve per curare le persone di eh ottenere poi eh i risvolti che la ricerca di base quella universitaria eh nei centri dove abbiamo i migliori ricercatori tutte queste acquisizioni spesso si traducono eh nella ricerca traslazionale dal eh dal dal laboratorio al al letto del paziente però poi bisogna fare i conti con con appunto la possibilità di sostenere tutto questo e di trasferire a un maggior numero possibile anche nella selezione stessa dei pazienti si fa comunque una selezione naturale tra chi più diciamo indicato a a ricevere un determinato farmaco perché ne ha maggior beneficio e quindi non possiamo diciamo a volte eh dare a tutti quello che sarebbe magari opportuno da un punto di vista ideale perché dobbiamo comunque contemperare la sostenibilità di tutto questo ma all'interno del servizio sanitario abbiamo esempi di una serie di diseconomie stesso nell'utilizzo dei fondi facevo riferimento al PNRR perché da giornalista rimango basito quando eh considero che è un fiume di denaro di questo tipo poi nell'arco di tre anni si esaurirà in alcune innovazioni sicuramente soprattutto di tipo eh tecnologico pensiamo alle macchine che appunto è molto semplice acquistare e diciamo fatturare e rimborsare tutto il resto invece è un processo eh il finanziamento dei processi ci vede in difficoltà sia come paese che ha un sistema sanitario orientato costituzionalmente così orientato all'universalità all'equità e dall'altro invece dei limiti che sono strutturali organizzativi di personale eh eh e che danno la misura di quanto la politica si debba occupare di questo capitolo che non è eh che è quella della della sanità che non è una spesa ma un investimento sulla salute delle persone. Su questo volevo una tua chiusura. Io ti ringrazio specialmente eh e voglio sottolineare l'aspetto che hai detto quello dell'investimento perché eh la spesa sanitaria così come la formazione lo dico da docento universitario che negli ultimi anni si è trasformato da una spesa pubblica invece che eh una voce di investimento ha comportato notevoli eh ritardi su quello che vogliamo dire quindi il fatto che ci debba essere investimento non non è assolutamente eh eh è un dato mandatorio oggi è opportuno oltre che eh mandatorio direi obbligatorio e quindi come tu hai detto il mondo dell'oncologia è un mondo complesso. Eh la patologia oncologica è una patologia che richiede eh condivisione di saveri trasversali abbiamo parlato tantissimo dei pilastri sui percorsi diagnostico-terapeutici e sulla multidisciplinarietà. Nelle varie regioni siamo tutti riusciti a mettere su una rete oncologica sicuramente che risponde ad alcune keyword fondamentali. Una keyword è quella della facilità di accesso che è una delle cose che si può dire. Un altro keyword può essere quella dell'appropriatezza anche se è abusata ma la vogliamo capire. Un altro keyword potrebbe essere quella dell'equità della un'altra keyword può essere quella della qualità della cura. Però voglio dire adesso bisogna anche fare un passo verso le altre tecnologie. Tutto questo noi l'abbiamo realizzato nelle varie regioni a costo zero ma adesso abbiamo necessità verso a a a avviarci verso un concetto di altissime tecnologie a disposizione complessità diagnostica molecolare diciamo condivisione di risorse in maniera virtuale tra i vari ospedali teniamo conto che nella nostra regione io non lo so quanti ospedali hanno già cartelle informatizzate o trattamenti informatizzati o tutto quello che sia. Cioè noi abbiamo bisogno di un meccanismo in cui possiamo accedere avendo le risorse a disposizione anche alle 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 feasibility poi di grande tecnologia e big data. Tu puoi accedere big data se c'è una condivisione dei dati a disposizione della massa ma se i dati sono dispersi tu questo non lo puoi fare. Devi avere la possibilità di investire in maniera anche variegata sui vari ospedali. Non è possibile immaginare che tutti possano fare tutti in un mondo in cui la eh utilizzazione delle tecnologie ad altissimo livello. Bisogna avere personale a disposizione. I PNR. Io ho partecipato a moltissime riunioni anche di tipo nazionale ma c'è un gran parlare sulla parte delle strutturate sulla parte delle tecnologie ma c'è poco spazio alle discussioni per il personale la tipologia. È possibile investire la stesso personale che abbiamo oggi? Da docenti direi no. Abbiamo bisogno di un personale che sia formato diversamente ad hoc anche per sfruttare tutte queste tecnologie. Anche sugli ospedali territorio. Se la tipologia di assistenza è diversa ci vorrebbe una tipologia di personale che è diverso. Allora siamo nell'ambito in cui siamo riusciti a creare una rete ottima come diceva pure la dottoressa voglio dire nella nostra regione. Accesso rapido ai farmaci. La nostra riunione io condivido quello che lei diceva. Si riunisce con una frequenza direi sbalorditiva nel senso anche giorni consecutivi se necessario senza assoluto ritardo su tutto. Però quello che bisogna fare bisogna cominciare ad essere competitivi anche sulle utilizzazioni delle tecnologie. E qua ci vogliono risorse crescita e non è una cosa che noi possiamo realizzare senza investimenti. Ci vuole parimenti di investimento e la possibilità di risposta su questo. Se non ce l'abbiamo difficilmente noi riusciamo ad essere competitivi e devo dire eh già in tutto quello che facciamo ci abbiamo un gap tra le regioni del nord che struttura dal punto di vista strutturale già sono un passo più avanti. Quindi riusciranno meglio a utilizzare i fondi del PNR. Noi dobbiamo partire un po' più dalla base e quindi porteremo in ritardo. Ma alla fine ci dobbiamo attrezzare. Io su tutto questo credo che ci vorrebbe una una svolta. Vorrei che i media facessero capire che questo è un aspetto rilevante. Cioè l'investimento tu l'hai detto nell'ultima cosa. La sanità? La salute della gente è un investimento. Non può essere una spesa. Io capisco che una spesa sanitaria c'è un budget per l'amor di Dio su questo non c'è tutto. Però voglio dire tecnicamente si può anche investire sulle tecnologie e crescere sulla formazione e crescere e questo ci darebbe molti maggiore. Bene grazie grazie a professore De Placido. Grazie professor. Si conclude questa prima tornata di interventi. Adesso passiamo ad una tavola rotonda dedicata al tema della integrazione. Le abbiamo già parlato in qualche modo in questo primo scorso. Intanto mi fa piacere ricordare che oltre alle presenze in sala che siamo collegati su su Facebook abbiamo oltre 350 persone che ci stanno seguendo e che sono tutte persone qualificate eh fanno parte di questo mondo ma non solo ci sono cittadini comuni eh rappresentanti del del mondo del volontariato e delle associazioni dei pazienti a cui cerchiamo di dare un quadro ben definito di quelli che sono eh i presupposti di una crescita del servizio sanitario orientata a un beneficio che ricada sulla pelle eh di di chi si ammala sostanzialmente e eh questa tavola rotonda appunto è dedicata a eh istituzioni clinici e terzo settore e all'industria con ehm per mettere a fuoco eh e sotto i riflettori l'integrazione tra eh le competenze proprio orientate come abbiamo detto al bene dei pazienti. eh inizierei con Roberto Bordonaro che è direttore dell'unità operativa complessa di oncologia medica Arnast Garibaldi di Catania che qui in sala e che ci raggiunge al tavolo eh abbiamo messo molta carne a cucere eh si tratta adesso di eh definire proprio poi sul campo nell'ambito delle unità operative che tastano il polso alla salute delle persone che hanno a che fare con le difficoltà di cura e anche con le opportunità che ci sono oggi nel nostro servizio sanitario rispetto appunto a eh all'innovazione alla governance abbiamo una serie di dispositivi di innovazioni che abbiamo prima accennato con il professore De Placido che vanno dalla tipizzazione genetica all'utilizzo di farmaci biologici tutta una serie di eh possibilità di cura che eh però eh vedono una difficoltà di rendere omogenee queste cure su tutto il territorio nazionale in particolare al sud che sconta come sappiamo una diseguaglianza anche nella distribuzione del fondo sanitario nazionale perché vi è bene eh ribadirlo che la quota per esempio pro capite che viene attribuita per la torta di finanziamento del fondo sanitario nazionale non segue la eh densità della popolazione la campagna e la terza eh regione d'Italia dopo la Lombardia e il Lazio ma ultima per quota pro capite per esempio perché i criteri di riparto sono ancora ancorati ad antichi eh diciamo ormai obsoleti potrei dire eh strumenti di riparto che fanno riferimento all'anzianità come principio sostanziale di attribuzione delle risorse perché gli anziani si ammalano di più ma ciò poi viene confutato tutti gli indicatori dell'OMS che invece fanno della deprivazione sociale del ritardo eh eh diciamo eh socio-economico uno degli elementi eh su cui puoi fondare anche questa attribuzione delle risorse e voglio anche fare un ultima parentesi e noi andiamo a vedere il grafico dell'agenas del rapporto di attribuzione dei fondi per eh la per la salute e eh i tassi standardizzati di di mortalità per tutte le cause e abbiamo una sovrapposizione ehm assolutamente eh lineare eh tra il la quota di riparto del fondo sanitario nazionale e la mortalità per tutte le cause. Io la ringrazio per avermi dato la parola ringrazio vi ringrazio ancora di più vi ringrazio ancora di più per per il vostro cortese invito e vorrei partire da un concetto che è stato ampiamente eh citato nel corso del degli interventi precedenti un concetto di cui con cui ci confrontiamo eh da molto tempo e quotidianamente c'è quello di sostenibilità e ricordo a me stesso più che i presenti la modo con cui Romano nel duemiladue chiudeva il suo building on the future in Canada sul futuro del sistema sanitario canadese Romano chiudeva il record dicendo un sistema sanitario è tanto sostenibile quanto chi eh governa decide che deve essere tale per cui la sostenibilità rientra nell'ambito della eh gerarchia eh delle priorità in cui quella eh voce di finanziamento viene inserita da chi ovviamente decide come sanziare finanziamenti è ovvio che se si continua a eh considerare il sistema sanitario italiano ricordiamolo universalistico e solidaristico e patrimonio quindi non soltanto sociale ed economico ma anche culturale della tradizione italiana se lo si continua a considerare soltanto una voce di spesa è chiaro che è difficile eh eh continuare a eh eh richiedere ulteriori sostegni dal punto di vista delle inizioni di finanziamento io non credo che sia tale e sono io credo che invece il sistema sanitario italiano sia una important un potenziale importantissimo volano di sviluppo economico lavorativo professionale e culturale oltre che ovviamente uno strumento sociale irrinunciabile eh mi conforta il fatto che questo mio pensiero non sia soltanto mio ma sia anche contenuto nel eh report che ricordato a memoria duemila e ciasetto duemila e diciotto dodicesima commissione senato del parlamento italiano concludeva il proprio il proprio report sullo stato di salute del sistema sanitario italiano dicendo appunto che il nostro sistema sanitario è un'opportunità di sviluppo non è soltanto uno strumento sociale eh ci sono dati abbastanza condivisi e abbastanza soliti che dicono che se investi un dollaro in sanità te ne rientrano uno virgola quarantotto e allora bisognerebbe cominciare a potenzi implementare e potenziare tutte quelle forme di integrazione pubblico privato la network research nel network research organization sistemi aperti tra aziende sanitarie pende che gestiscono tecnologie strutture ospedaliere università istituti di ricovero e cura che già adesso esistono ovviamente che contribuiscono a costruire conoscenze e allo stesso tempo promuovere crescita eh professionalità e e iniezioni di finanziamenti dal settore privato al settore pubblico per eh questo tutto questo tipo di attività eh io credo che questo sia assolutamente necessario così come bisogna eh prepararsi a garantire una omogeneità di accesso alle nuove tecnologie di agnosti che servino del braccio durante la sua lettura come sempre puntuale precisa dettagliata sebbene concisa perché ovviamente per i motivi legati al programma ha già detto eh ci sono alcune tecnologie di agnosti che come per esempio l'analisi del DNA tumorale circolante e in alcune patologie il tumore non ha meno ma forse ancora più ancora prima nel tumore del coloretto metastatico o nel tumore del polmone eh stanno guadagnandosi un ruolo oramai standardizzato in quasi tutte le fasi della storia naturale della malattia neoplastica e questo tipo di diagnostica associato alla incidenza epidemiologica di queste patologie e alla loro prevalenza in relazione al miglioramento delle dei trattamenti e conseguentemente della loro proniosi richiederanno a brevissimo termine che esami di questo tipo vengano a serialmente nel corso dei trattamenti dei pazienti per il monitoraggio delle risposte o addirittura del rischio di recidiva nei pazienti operati e in follow up. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo garantire questa diagnostica che prevalentemente non è una diagnostica con piattaforme eh di sequenziamento d'alta produttività quindi next generation sequencing siano accessibili a tutti i pazienti su tutto il territorio nazionale e ora se è vero che le diagnostiche di maggiore maggiormente sofisticate devono essere riservate ad alcune strutture di eccellenza questo tipo di diagnostica non lo sono più considerate una diagnostica elitaria e sicuramente sofisticata deve essere adeguatamente diffusa sul territorio il che vuol dire investimenti che dal punto economico non saranno non sono per così elevati ma soprattutto crescita professionale degli operatori soprattutto crescita professionale degli operatori più noi siamo avremo bisogno avremo bisogno di biologi molecolari che siano in grado di effettuare queste queste analisi avremo bisogno di eh personale tecnico che li supporti e tutto questo va pensato ieri non oggi perché questo tipo di diagnostiche diventerà lo standard lo è oggi quasi ancora più domani e tutto questo ovviamente deve avvenire all'interno di processi di integrazione tra le strutture ospedaliere le strutture accademico universitarie e eh le aziende le aziende del farmaco e le aziende delle tecnologie poi entriamo chiaramente se parliamo di altre tecnologie diagnostiche e terapeutiche entriamo entriamo nell'ambito della dei concetti di robotica e via dicendo che chiaramente competono molto molto di meno meglio perché ne sono un semplice spettatore non utilizzatore ma problematiche a fini si si presentano anche in quell'ambito. Sì molto interessante eh c'era una domanda anche una mia grazie allora ehm so che sono collegati quindi la domanda eventualmente può avere anche una risposta più voci se è possibile Elita Schillaci e Stefano Vitello d'accordo? Come no? Allora io mi ricollegavo a quella lezione bellissima del professor De Placido dove ci ha rappresentato una situazione apparentemente futurista in realtà è presente è il presente che sempre più si affermerà e eh si consoliderà certo è che eh c'è un piccolo fattore distorsivo quando ci si trova qui tutti quanti di solito si portano le esperienze migliori il eh diciamo il eh il il lo stato dell'arte no? Per cui eh alle volte siate nel treno e pensare che questo valga per tutto il sistema per tutto il paese tutte le regioni cosa che non è e eh ha portato ad esempio il modello tumore del seno facendoci vedere una prospettiva bellissima e potrebbe potrebbe essere anche presente potrebbe il problema è che si deve confrontare come di tutti quanti in investimento in tecnologie investimento in informazioni investimento in strutture eccetera c'è già qualcuno eh che eh ci pensa ma io chiedevo anche un'altra cosa lei ha parlato di sostenibilità e di accesso alle nuove innovazioni sostenibilità vuol dire che si parla di efficacia dell'intervento che deve essere da per scontata e di costi di quello che eh serve per ottenere questo risultato accesso alle nuove innovazioni che è difficile perché c'è il problema il solito dei costi di tutto quello che stiamo ragionando ora anche di diffusione anche di diffusione io sto pensando invece ma perché non parlare anche per non dimenticarsi eh perché il paese grande tanto difficile anche dell'accesso ai problemati all'accesso alle vecchie ma ancora attuali innovazioni alias lo screening perché per l'appunto se non fosse stato per il fatto che il professore ha parlato di tumore del seno allora ci sono i tre screening oncologici classici d'accordo parliamo di velo e sono i più tranquilli tumore a mammella c'è un gradiente nord sud si va dal settanta per arrivare al eh trenta trentacinque eccetera valore medio nazionale cinquantotto eh screening del color retto valore medio nazionale quaranta d'accordo non parliamo quello della cervice perché siamo ancora sotto a dispetto che ci sia una sorta diciamo di capacità di invito molto maggiore addirittura sale sopra il cento per cento però poi quelli che aderiscono perfettamente i numeri di eh del cancro e estratti da poco tempo del duemiladiciannove tredici milioni quattordici milioni di inviti nemmeno sei milioni di partecipanti poi si scopre che per esempio nel color retto la diminuzione di incidenza del tumore sembra essere legata proprio anche alla capacità con lo screening di agire prima di eliminare le lesioni più avanzate per 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 penso che valga per tutti i tumori in linea di massima d'accordo? Il color retto certamente il il color retto il color retto diamo per scontare il color retto io prendo come il paradigma il color retto d'accordo? Ecco la sto eh dicendo ma nel color retto sul su quelli che hanno aderito sono stati identificati du mila novecento eh tumori maligni e quattordicimila o diciotto mila lesioni adenomatose eh avanzate d'accordo? Oh su questi ci si agisce i problemi sono quegli altri siccome lo screening non non è eh dettato da nessuna alchimia probabilistica eccetera si può presumere verosimilmente nel sessanta per cento della popolazione a fatto lo screening ci siano numeri esattamente uguali se non superiori e quelli non è che spariscono non ci sono vengono quando sono già in una fase avanzata tanto è vero a me viene una domanda ma se noi insieme perché i tumori poi arriveranno sempre a una loro eh storia naturale la diversificazione è stato bellissimo l'immagine di c'è da il professore però se bisogna essere sostenibili forse non verrebbe lavorare su questo perché lo screening a tutti gli effetti è quello che è ad oggi ad oggi quello che ti garantisce la migliore differenza che nello nel conorretto c'è un quattordici per cento di differenza tra quelli che hanno fatto la di sopravvivenza a cinque anni tra quelli che hanno fatto lo screening e quelli che non hanno fatto lo screening ed è difficile trovare anche un farmaco che ti garantisca alle volte questa eh differenza allora la domanda è cioè ma nell'insieme non farci eh cioè ritornare sempre a considerare le eh le cose vecchie ma buone non dando per scontato che non funzionano e quindi perché a me questa cosa mi è scattata quando si è detto nuove problemi all'accesso all'accesso i problemi all'accesso degli altri eh lei pone questioni di assoluta importanza che eh io non avevo neanche sfiorato perché pensavo avevo calcolato un po' per la tavola del numero dei partecipanti avevo calcolato di avere qualche minuto a disposizione ho detto ma lo gioco così anche perché poi sa vuole rischio e se parliamo di tutto non parliamo di niente eh prima considerazione è ovvio che eh implementare sostenere e diffondere progressivamente eh gli screening per quelle che sono le tre patologie principali e eh se eh e il per il tumore al polmone sulla base dei dati eh più recenti pubblicati tre anni addietro queste quattro patologie ovviamente deve essere una priorità assoluta di chi si occupa di salute pubblica perché come correttamente dice lei uno dei modi migliori per rendere sostenibile il governare per governare governare la il costo il costo di un sistema è quello di eh ridurre il numero di patologie tumorali nel eh o di eh ridurre il numero di patologie tumorali avanzate al momento della diagnosi ma io andrei allora anche oltre perché se vogliamo considerare di eh la necessità di eh implementare ciò che già abbiamo non dobbiamo non dovremmo neanche dimenticarci di quello che è il periodo del fine vita del presente che poi siccome incide ben poco dal punto di vista economico sulle casse dello Stato incide molto spesso tantissimo su quello che è l'autospoche che vado a dire su quello che sono i problemi il l'equilibrio economico delle dei pazienti delle singole famiglie ricordiamoci che una qualunque storia di malattia vissuta anche all'interno del percorso meglio gestito dal punto di vista dell'innovazione farmaceutico tecnologico offerto al paziente se non si conclude con un periodo di fine vita altrettanto dignitoso in cui il paziente non si senta abbandonato sia invece sostenuto e gestito per le sue problematiche più o meno emergenti fino al momento finale è comunque un percorso che lascerà un pessimo ricordo al paziente alla famiglia del paziente per cui dal punto di vista della qualità percepita anche il periodo di fine vita è di estrema importanza poi vogliamo ragionare su quella che è la tossicità finanziaria della malattia tumorale di quanto stia progressivamente aumentando il peso economico che grava sulle famiglie e i caregivers nonostante il sistema solidaristico e universalistico che noi ci preggiamo di avere e dobbiamo cercare di mantenere costi che sono in progressivo incremento e che sono legati tanto alla perdita di capacità reddituale tanto alla inadeguatezza degli strumenti finanziari di supporto tanto al costo di alcune di alcune procedure di sostegno che non vengono il cui accesso non è adeguatamente garantito la eh oltre alla perdita di capacità reddituale c'è del paziente c'è anche quella del caregiver vogliamo parlare della emarginazione di quella milione passa di italiani che sono guariti tecnicamente dal cancro e che non vedono riconosciuto il loro diritto di accedere agli strumenti finanziari di natura assicurativa o di natura bancaria per i quali l'accesso ai mutui l'accesso ai finanziamenti è recluso e questa è una vera e propria discriminazione che un paese civile come l'Italia non può permettere che perduri attualmente c'erano tre progetti di legge sull'obbligo oncologico tutti purtroppo abbastanza insufficienti ma comunque c'erano e ovviamente con la fine della scorsa legislatura sono eh come tutti sappiamo i progetti di legge muoiono con la legislatura e ci sarà da ricominciare tutti questi argomenti sono certamente degni di essere affrontati la mia paura è che però se affrontiamo tutti gli argomenti in realtà poi alla fine non ne affrontiamo nessuno eh sì certo questi sono sono i temi che affrontiamo eh io volevo adesso proseguiamo adesso darò la parola ad Elita Schillaci che è il professore ordinario di principi di management e fondatore LHM centro studi avanzati in innovazione e leadership nel management e poi Stefano Vitiello che coordinatore regionale Cipomo della regione Sicilia ora eh la mia riflessione è questa anche da sostanzialmente da da giornalista noi abbiamo avuto due due tre anni ormai di pandemia in cui eh abbiamo stravolto completamente eh l'organizzazione sanitaria eh gli assetti in in questo senso in maniera perniciosa degli ospedali e delle asle tutto era orientato sostanzialmente a fronteggiare la pandemia da covid diciannove che inizialmente nelle prime ondate aveva un un scontava una mortalità che che era allarmante diciamo sostanzialmente e quindi abbiamo non soltanto innovato per esempio i processi con la utilizzando WhatsApp come piattaforma principale per la comunicazione tra gli ospedali tra i specialisti clinici il territorio e quant'altro ma anche attivato tutta una serie di laboratori da in campagna dal change al TGEM finanziando eh o anche a livello centrale e regionale eh i sequenziamenti per la sorveglianza sanitaria ovunque si fanno tamponi abbiamo speso milioni e centinaia di milioni di euro per questa emergenza ora io mi chiedo l'emergenza oncologica non che diciamo passa sotto traccia ma che rappresenta ancora con l'incidere sia in termini di incidenza che di mortalità una delle principali patologie che diciamo con cui il eh i cittadini devono confrontarsi e le famiglie confrontarsi ogni giorno per quale motivo eh non si può fare uno sforzo per garantire i sequenziamenti genetici per garantire eh quello che poi del resto anche in io ricordo è nel in sede di conversione del della legge diciamo che recepiva il PNRR se non vado errato è la centocinquantadue del duemila uno recepiva un emendamento che prevedeva che entro novanta giorni dall'approvazione del decreto ci fosse la costituzione dei molecular eh tumor board in tutte le regioni con gruppi specialistici che si dovevano appunto occupare eh dei test di profilazione genomica eh eh per quanto riguarda eh i appunto l'oncologia ai tumori allora tutto questo eh eh perché non si fa eh perché non si rende diciamo eh l'accelerazione che abbiamo visto in atto molto proficuamente durante il covid anche per quel che riguarda l'oncologia questo lo vorrei eh riverberare a tutti eh quelli che hanno parlato finora ma in particolare alla professoressa Rita Schillaci che eh Schillaci che è ordinario eh di di management eh e studi avanzati innovazione e leadership eh che è collegata online su zoom eh subito dopo chiamare anche l'intervento di Stefano Vigiello coordinatore regionale Cipom della regione Sicilia. Sì buonasera grazie per l'invito e soprattutto per la domanda intanto però mi chiedo se voi riuscite a sentirmi bene quindi se posto. La sentiamo benissimo. Prego. Bene. Eh eh è un po' questo il tema che lei ha centrato per me perché poco fa parlava di di questo centro eh appunto che abbiamo fondato con sette dipartimenti di vario tipo all'università di di Catania eh che ha come obiettivo innovazione e leadership eh non due parole a caso in health management perché effettivamente il campo oncologico non era una dimostrazione l'abbiamo sentito sin dalle prime relazioni bellissime che abbiamo avuto il piacere di ascoltare eh è un campo oncologico in cui evidentemente abbiamo visto delle enormi ehm degli enormi avanzamenti nella conoscenza sia sotto il profilo delle opportunità terapeutiche sia sotto il profilo delle nuove nuovi percorsi diagnostici e e questo un po' è è legato ed è stato accelerato ehm da ciò che è successo durante il covid eh non solo ovviamente in campo oncologico prima di tutto perché eh lo dico eh durante il covid ehm durante il periodo di pandemia globale tutto il mondo ehm eh ha potuto sperimentare nei vari eh campi del sapere quello che noi chiamiamo collective intelligence quindi molto di più capacità eh di ehm unire gli sforzi eh in modo appunto di proseguire eh accelerare la conoscenza e e poi anche durante questo periodo eh ovviamente si è tutto diciamo esploso il tema a cui lei prima faceva riferimento anche qualche altro data analytics uso dei dati ehm e poi è esplosa la percezione dell'importanza delle conosce multidisciplinari quindi questo non solo ripeto in campo oncologico ma ciò che è avvenuto in campo oncologico e avvenuto anche in altri settori ha visto un'accelerazione della conoscenza ehm a cui hanno preso parte anche i centri di produzione di know how eh italiani come abbiamo sentito e con molta con molto orgoglio appunto abbiamo seguito tuttavia eh l'innovazione qua mi rivolgo a Roberto che sa di che cosa stiamo parlando perché abbiamo iniziato ehm eh sin dall'inizio del covid con questo percorso di innovazione per esempio nella creazione di nuovi setting ospedalieri ehm l'innovazione ehm poi ha a che fare non solo con la produzione della conoscenza ehm e l'innovazione un tema molto delicato quindi e tra l'altro in questo periodo è stato eclatante la crescita nell'innovazione eh mentre non è eclatante è stata ehm la conoscenza dei processi attraverso cui l'innovazione eh possa eh radicarsi e trasformarsi in percorsi in appropriatezza come dicevate voi in sostenibilità tutte quelle keywords che abbiamo eh che abbiamo sentito molte volte mh come dire l'innovazione viene utilizzata soprattutto come un percorso di facciata così come ultimamente si sente parlare di benefit company sostenibilità ISG non so se avete visto diciamo avete seguito un po' quali sono i temi caldi nell'economia in vario mentre social governance ma invece eh non c'è mh e non c'è intenzione eh di adeguare eh la diciamo i processi operativi i processi gestionali eh e soprattutto i processi culturali eh alla all'accettazione dell'innovazione e alla promozione della stessa quindi abbiamo mh una incredibile asimmetria da un lato la conoscenza progredisce pensate che in in giugno io ho creato un ho organizzato un nuovo evento sulla medicina traslazionale eh mh organizzato con Singapore con con la cittadella e la salute di Cambridge eh diciamo correttori quindi di grandissimo livello per far capire in che modo si dovesse lavorare in ottica di medicina traslazionale l'avete detto prima dalla dal letto dal dalla molecola fino al letto del paziente ebbene nella parte della molecola eh diciamo ci siamo ricercatori conoscenze eccetera ma tutto il letto del paziente la modifica delle strutture la modifica della cultura ma anche le resistenze ai pazienti non vengono completamente considerate c'è tutta la parte finale ciecamente ciecamente e senza alcuna capacità di guardare il futuro viene ignorata il parlo dell' guardare il futuro perché noi ora per anni la pensiamo l'incapacità di aver ehm seguito una programmazione corretta delle risorse umane nel caso dell'accesso alle facoltà di medicina e così via dicendo e quindi diciamo gli errori di programmazione adesso ci portano e lo vediamo e lo sappiamo e lo viviamo io peraltro sono moglie di primario lo conosco ogni giorno questo tema alla mancanza e a quasi una lotta eh nell' accaparamento delle risorse umane è vero è stata e quindi è stato una eh non corretta programmazione adesso stiamo facendo gli stessi errori identici cioè un paese che non ha eh la capacità di gestire ehm o ehm le attività c'è non c'è completamente cultura di management eh la cultura del management alla cultura del fare la cultura del creare organizzazione adatta governanza adatte processi di cambiamento culturale adatti non c'è c'è in questo paese tutto quello che è la capacità manageriale rimane completamente inascoltata non conosciuta eh perché si ritiene giustamente da un lato che sia più importante guardare a monte i processi nel caso per esempio della medicina dell'oncologia guardare la ricerca sostenerla eccetera mentre tutta la parte del dopo tutta la parte a valle non viene considerata ecco che allora eh come diceva lei un'emergenza vera e propria che quanti tre milioni e mezzo di oggi numeri eh delle persone affette ma se i numeri li conoscete voi ovviamente molto meglio di me sono numeri che apprendo sentendo le vostre cose non 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 di 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 converso non ottiene una risposta emergenziale adeguata in termini di organizzazione di uomini di infrastruttura di know how insensatamente si pensa che l'innovazione cadda che c'è l'innovazione tutto si adeguarà insensatamente mentre è stato detto da tutti quelli che mi hanno sentito sentito e che mi hanno preceduto che invece e e e poi non è solo nella nostra e nel nostro tema ma anche in tutti i tavoli di cui si parla di PNR cioè ovviamente parliamo di abbiamo acquistato infrastrutture tecnologiche stiamo costruendo infrastrutture eccetera però tutto quello che è l'investimento il know how e risorse è un uomo e secondo mh va in secondo piano e comunque non viene programmato e comunque non viene pianificato questo a questo punto è inutile e io ne sono convinta noi abbiamo dei medici bravissimi è un sistema sanitario eccellente ma fanno una fatica enorme a convivere in in infrastrutture in processi che non sono in grado di correre così come corrono loro e così come corre il mondo al di là diciamo delle micronicchie in cui ci ritroviamo ad operare e questa diversità questa ampiezza si è eh si completamente diciamo è aumentata in modo vertiginoso e quindi mi soprattutto perché chiaramente in questi anni eh tutti i paesi si sono mossi e mossi rapidamente quelli che avevano i first move erano un vantaggio ormai imprendibile noi abbiamo know how capacità di ricerca questo ma dove la capacità gestionale dopo la dove la capacità manageriale dove la capacità di superare la burocratizzazione dove la capacità di snellire i processi tutto questo è totalmente mancante ed è proprio quello l'anello debole nel la più volte detto è nel processo l'anello debole e quindi secondo me questi stati generali ora li dovremmo eh invocare stati generali sulla necessità di capire che se si vogliono nuovi setting assistenziali se li vogliamo portare a casa come la sperimentazione io e Roberto stiamo cercando di fare a Catania ma sono ne parliamo dall'inizio del del covid siamo arrivati prima di tutti ma ancora stiamo lì le lungaggini burocratiche i processi nel frattempo tutto ci supera tutto supera ed è già obsoleto perché c'è una velocità incredibile che ci piacciono purtroppo siamo in una in un sistema in cui l'iper digitalizzazione e chiudo poi sono stata sono tornata ieri dalla Germania sono stata a questo congresso grossissimo il più grande evento europeo sull'evoluzione del web eccetera tutta una parte dedicata all'health care ovviamente me la sono seguita con grandissima eh attenzione allora non c'è più una parola d'ordine tipo ora dobbiamo tornare a un nuovo ordine non ci sarà un nuovo ordine saremo costantemente in crisi in una hyper crisis continua per la parola d'ordine infatti l'ho messo anche sul link di una crisis permanente quindi le infrastrutture che come ha detto lei chiudo veramente ehm sono state abilitate se possibile un sistema in un momento di crisi e quindi un nuovo processo operativo velocità gelo e non possono pensare di essere smantellate perché poi ormai siamo tornati nella normalità no siamo in una situazione di crisi permanente che non cambierà e quindi le persone devono entrare in questa logica di velocità snellezza e capacità di apprendere learning by mistake tutti i temi che sono totalmente conosciuti e le nostre governance e le nostre infrastrutture bene la ringrazio molto professoressa schillaci ha messo il dito in una in una piaga possiamo dire che la piaga del nostro paese che è la burocratizzazione quello che prena i processi la è una patata bollente potremmo dire che è nei nelle mani della della politica e la stessa politica spesso non riesce con tutta la volontà politica mi si scusi la ripetizione di superare quello che sembra quasi eh insito in una struttura delle che innerva le amministrazioni del nostro paese che spesso diciamo intralcia i processi e che in ambito scientifico e medico ti traduce poi in una eh in una conseguenza che tocca evidentemente la carne viva dei dei cittadini che vengono privati di un diritto che è quello alla salute su questo eh ancora vorrei non solo mi scusi eh eh ma non solo politica politica e gestione management e politica vanno a braccetto non solo nella sanità in tutti i settori quindi diciamo che si potrebbe anche fare a meno secondo me anche della eh della politica laddove ci fossero delle soluzioni di snellezza di capacità di agilità che che vanno poi dentro le istituzioni però purtroppo siamo i siamo bloccati cioè bloccati proprio dall'incapacità nostra di voler di voler cambiare grazie grazie professore io su questo ho ho un'idea diversa penso che la politica debba avere comunque un primato che è è la scienza delle scelte la visione politica non può averla un tecnico eh però occorre che ci sia un anello di trasmissione diretto tra chi compie le scelte e chi ha una volontà di perseguire determinati obiettivi e chi diciamo fornisce gli strumenti affinché questo avvenga e spesso il limite è anche quello economico e dell'uso delle risorse che se ne fa allora prima l'ho annunciato Stefano eh vitello che è coordinatore regionale CIPOMO della regione Sicilia mi sentite? Prego la vediamo? Mi sentite? La sentiamo non benissimo ma la sentiamo se si avvicina al microfono forse ringrazio innanzitutto eh le domande che avete posto e le interventi dei miei colleghi perché mi consentono di riflettere su alcuni punti e di dare anch'io il mio il mio contributo indubbiamente il mondo sanitario prima 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 per l'oncologico in modo particolare vive un sistema complesso nel quale sistema esistono una serie di interessi di necessità a quelle volte complettuali perché da una parte c'è la necessità eh eh bariegata degli ammalati dall'altro c'è la sostenibilità economica dall'altro alle carenze e le disfunzionalità organizzative quindi indubbiamente in questo sistema così complesso a mio avviso è necessario diciamo declinare due mh due due vocaboli innanzitutto la organizzazione e il resto molto vocabolo da organizzare è una questione di natura etica teniamo presente che eh l'articolo trentadue della Costituzione tuteva la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività ecco il sistema sanitario è dovuto garantire questo principio costituzionale e tutto deve essere fatto in funzione dell'uomo che per la sua peculiarità antropologica unica è un essere irrepetibile e pertanto meritevoli di essere rispettati a soccorso soprattutto se ammalati e con questo sistema così così complesso come dicevo convivano diverse diverse necessità e con le attenzioni tumorali che come detto sono delle patologie eterogenee per caratteristiche biologiche manifestazioni cliniche, fasse evolutive, peculiarità antropologiche, risposte ai trattamenti e esiti occorre dunque ripensare in maniera saggia a un nuovo sanità territoriale, a ridisegnare la sanità territoriale utilizzando gli strumenti e le risorse che abbiamo a disposizione. Quando parlo di organizzazione intendo alcune cose sulle quali è possibile intervenire in maniera agevole. Pocanze si parlava della importanza della implementazione, dell' adesione alle campagne di screening, si parlava anche della prevenzione primaria per educare a corretti stili di vita e questi sono degli obiettivi su cui possiamo con energia convergere e indirizzare le nostre energie. È necessario poi superare, a mio avviso, una mentalità ospedalocentrica e le modalità tradizionali di assistenza. Nel senso che ho davanti tutte quelle criticità sulle quali possiamo intervenire dando un valore ulteriore di miglioramento. Il potenziamento ad esempio della medicina territoriale e quando parlo potenziamento della medicina territoriale mi riferisco alla riqualificazione di presidio a schegalieri per i pedicias, spesso anonimi, insignificanti, dove c'è personale, dove c'è strumentario. La necessità di attivare ambulatori e farmacie territoriali. Oltre al potenziamento della medicina territoriale c'è anche l'integrazione assistenziale oncologica territorio ospedale. Perché dico le affezioni tumorali essendo diverse hanno diverse ammalati verso cui noi ci relazioniamo. gli ammalati acuti che richiedono trattamenti specifici per la presenza della malattia in alto. Oppure le pazienti cronici, quei pazienti che hanno un decorso molto lento dove l'affezione a volte si atterna a periodi di remissione. Ma abbiamo anche pazienti lungoviventi, vado a dire quei pazienti senza evidenza di malattia che rispetto alla popolazione generale hanno un rischio maggiore di ricaduta della malattia o di secondo tumore. E ci sono infine i pazienti guariti. Quei pazienti che rispetto alla popolazione generale hanno la stessa aspettativa di vita. Ecco di fronte a questo variegato mondo, dal mondo oncologico, ovviamente bisogna pensare a modelli assistenziali più idonei ai bisogni, con percorsi modulati nel tempo e nelle modalità a seconda delle circostanze e delle specificità dei quadri clinici, del bisogno socioassistenziale, riabilitativi, di reintegrazione socio-familiare del malato, del suo rinserimento lavorativo e occupazionale. Quindi accanto a questi due elementi ce ne sono ancora la necessità di una collaborazione più stretta tra l'oncologo e il medico di medicina generale, perché è vero che all'oncologo deve essere reputato il ruolo principale nel frattamento delle affezioni in appunto, ma è anche vero che il medico di medicina generale può essere la figura di riferimento per quanto riguarda la gestione delle malattie concomitanti, intertenzioni, intercalestore in linea, diabete. Per sollecitare gli interventi di prevenzione primaria e secondaria, come avete detto, perché il medico di medicina generale ha quella capacità di penetrare con più facilità nella privacy del suo assistito e quindi potrebbe avere una maggiore capacità persuasiva, così come potrebbe anche attenzionare gli esiti anatomi funzionali e conseguente alle dure chirurgiche, mediche, radioterapiche, così come il miglioramento delle cure precoce domiciliari. Cioè questi sono degli ambiti verso cui con efficacia possiamo intervenire noi come classe medica. Ovviamente si può affrontare la grande sfida della complessità nella quale viviamo con queste necessità divergenti, a volte conflittuali, se c'è una visione d'assieme, una rabbina in generale. E per questo condivido perfettamente quanto è stato detto sulla sostenibilità economica del sistema, ma anche su un'occurata programmazione politica e pianificazione sanitaria, sulla capacità gestionale degli amministratori. Però faccio anche riferimento a due grandi, grosse risorse che il sistema Italia ha nella sua composizione. Far a dire l'impegno della cittadinanza e dell'associazione di volontariato. Ecco, le associazioni di volontariato, a mio avviso, rappresentano un valore aggiunto per indirizzare le pianificazioni, per orientare le politiche pubbliche, la pianificazione sanitaria verso il bisogno reale dei pazienti ombologici. Ovviamente dell'associazione in tempo armato, strutturate, sinergiche, competente, perché sono questi che rappresentano le sentinelle, capaci di scogliere le esigenze della popolazione. E l'ultimo elemento, l'ho sentito parlare poco, però a mio avviso vorrei sottolinearlo, la necessità di implementare la ricerca in campo oncologico. Perché dal fondo economico e finanziario del 2020 si dice che l'Italia, rispetto all'auspicato dell'Europa, 3% investire del TIL, ha investito meno della metà. E di questa metà, lo 0,5% soltanto è stato dato, è un investimento pubblico. Ecco, la ricerca diciamo è fondamentale perché rappresenta un volano di sviluppo economico, sociale, possibilità, come dire, di implementare certe scelte. Notevole e concludo è anche l'importanza delle rete oncologiche e delle PDCA territoriali, con la possibilità di usufruire della profilazione genomica per una occupata personalizzazione delle dotture. Però, e l'ho detto anche in questa volta, non bisogna guardare all'aspetto formale del PDCA, ma bisogna guardare all'efficacia che il PDCA hanno. E quando parlo di efficacia ho come punto di riferimento l'abbassamento della fuga sanitaria e l'innalzamento dell'attenzione da parte del malato. Ecco, molto spesso succedono in certi territori dove continuano ad esserci ancora dei divari in campo sanitario, che bisogna ovviamente colmare. Così come è necessario fare una omogenizzazione delle piattaforme di collegamento, per quanto riguarda la raccolta, la trasmissione dei dati, tutto questo in sicurezza perché dobbiamo anche rispettare le normative della privacy. E l'integro diffuso del fascicolo sanitario elettronico, per una più facile e immediata, come dire, presa visione delle situazioni cliniche. Questi sono degli obiettivi che a mio avviso possono essere raggiunti con maggiore priorità, rispetto all'altro fondamentale. Dice bene lei, allora quando parla della politica, come quella capacità di interpretare, indirizzare le scelte e di fare una popolata pianificazione. Però se non c'è una organizzazione, se non c'è un patto di alleanza, dove ognuno fornisce il meglio di se stesso, dal punto di vista programmatico, politico, sanitario, ecco la nostra battaglia nel vingere questa complessità diventerà sempre più difficile. grazie professor Vitello. Si ha presentato tutto quello che sono effettivamente gli obiettivi, sono tutti obiettivi condivisi, il problema è come fare a realizzare la difficoltà nella sua complessità. C'è ancora la professoressa Schillaci collegata? Sono, sono, ci sono. Ci sono. Allora le do, faccio spalla, ecco lei, perché ora credo, credo che la professoressa abbia detto una cosa, è passata un pochino sotto silenzio, ma non perché ha detto cose particolari, ma gli orecchi di chi sente, sono orecchi diverse a seconda del ruolo che hanno svolto. La professoressa ha detto chiaramente una cosa, così come il professore De Placido ha detto c'è bisogno di formazione, anche te hai detto c'è bisogno di formazione alle nuove tecnologie, c'è bisogno di formazione ai nuovi modi di comunicare, di stare insieme, eccetera, e questo riguarda tutti i professionisti perché era un richiamo a questo, c'era investite in questo. La professoressa però ha detto un'altra cosa, esattamente uguale, c'è bisogno di formazione anche per i tecnici che devono dirigere le nostre organizzazioni sanitarie, voi non ve lo potete permettere, perché non lo potete fare, nel senso che se tornate a casa poi è un problema, invece io credo poterlo dire già, perché fuori dalla Mieschia, anche perché la dimensione del fenomeno è in realtà conosciuta, però bisogna poterlo dire. La professoressa ha detto, ma se io prendo un professionista e lo metto a formarsi sulla gestione di una tecnologia nuova, ma il problema non sarà lo stesso per la tecnologia più difficile e più complessa è la macchina organizzativa. Lo sapete cosa vuol dire? Oggi le nostre aziende hanno una misura che va dai 3.500 agli 8.000 professionisti che ci lavorano dentro, diviso in una quantità industriale di strutture, di aggregazioni le più diverse, cioè tanta roba, no? È molto complesso. Gestire le relazioni cercando di portarle verso un obiettivo sono anche, chiedono anche conoscenze che almeno la gran parte delle direzioni non ha avuto modo di conoscere, non ha avuto modo di conoscere. Mentre invece la professoressa Schillaci, si capiva che dietro eh l'ha detto non si conoscono alcune cose ma ci sono delle strategie, ci sono dei testi di scuola anche lì. Eh se io prendo per esempio e dico oh Michael Porter eh ti ha inventato dieci passi per risolvere i problemi della sanità americana, no? Ecco eh se lo chiediamo eh alla gran parte dei gestori di sistemi sanitari non lo conosci ma lì dentro c'è tecnica, c'è logica, c'è e sono molte delle cose che eh si dicono. Forse sarebbe importante una riflessione anche sul momento di gestione delle macchine organizzative. Non so cosa ne pensa il professionista. Io parlando di tecnologia non so se prego risponde eh Bordonaro. Poi professoressa Schillaci voleva anche un suo parere eh? Sì sono qua. Sì io ovviamente ho fatto la premessa che ritengo che in Italia abbiamo ottimi direttori generali, ottimi direttori sanitari, ottimi direttori amministrativi quando molti di quali ho avuto il privilegio di eh interfacciare in passato e attualmente la mia vita professionale però io due considerazioni mi sento di fare. Uno dovremmo rivedere il percorso di formazione e i requisiti necessari per l'accedere alle ai cuori abicari delle aziende sanitarie italiane. Due dovremmo abolire il tetto di retribuzione per i dirigenti abicari delle strutture sanitarie italiane. Perché finché manteniamo i tetto di retribuzione che abbiamo attualmente probabilmente tagliamo fuori una fetta di alcuni di grandissimi professionisti che ovviamente preferiscono lavorare per corporation pegato. Grazie professoressa. Sì sì intervengo io lei ha accolto perfettamente ehm ha fatto anche un esempio molto appropriato citando porte. Cioè quando io parlo per esempio di knowledge management no? Ehm sicuramente i i ottimi direttori generali che conosco io, gli ottimi direttori sanitari eh che conosciamo tutti e gli ottimi direttori amministrativi non conoscono quello di cui sto parlando. Eh quando quando io parlo di creazioni di organizzazioni ambidestre per rispondere alle emergenze sicuramente ma perché io non conosco le evoluzioni nella vostra scienza e voi non conoscete le evoluzioni nella scienza manageriale voi no dico eh chi chi si occupa di altra roba. Eh mentre invece siccome sono cambiate le organizzazioni che sono diventate complesse la tecnologia è rapidissima il sapere è l'elemento fondamentale la resistenza al cambiamento sono un tema centrale occorre veramente affrontare una volta per tutte il fatto che è cambiata questa disciplina e che le loro conoscenze Roberto si limitano quasi tutte al di là di alcune eccezioni solo soprattutto e molte volte neanche queste al quadramento di bilanci e quindi sia la logica del costo e non nell'on investimento mentre non c'è una voce in un bilancio che possa essere considerata a costo cioè il risorso umane sono un investimento la tecnologia è un investimento la capacità di dialogare con eh con la cittadinanza sono investimenti eppure oggi si parla come di una novità non consideriamo i costi ma sono investimenti cioè diciamo nella nostra logica manageriale si deve eh avere una valutazione a tutto tondo dei costi strategici e degli investimenti strategici dei benefici strategici e noi siamo adesso un passo di diverso e non siamo nella tentativo di far quadrare i conti così già recuperando un tema che era comunque centrale che era quello chiaramente del eh del del dei conti che non delle dell'incapacità del nostro sistema sanitario comunque di sostenibilità perché poi voi parlate di sostenibilità ma eh anche Roberto ha fatto un riferimento Roberto Bordonaro molto preciso su questo perché il concetto di sostenibilità anche qua deve essere quadrato in un in un'ottica ampia ed è sostenibilità sociale sostenibilità economica e sostenibilità ambientale ma soprattutto anche una sostenibilità nel medio e lungo termine non con un'ottica di breve ebbene questo per noi è una rivoluzione quello che è successo negli ultimi anni il nostro sapere è una rivoluzione ma non riusciamo a farlo passare perché c'è e poi c'è il problema del management è così diciamo quindi io sono contenta che sia stato colto eh non perché io sottovaliti il ruolo della politica e lo dico eh è fondamentale cioè eh diciamo ci sono poi politici che sanno che sono adatti o poco adatti o molto adatti alla sanità ma politici che non hanno completamente idea al di fuori delle esperienze più o meno tecniche che hanno fatto perché anche lì il ruolo del politico è centrale però io voglio dire se diciamo sempre solo che il ruolo è della politica secondo me è un po' eh non riusciamo a vedere anche l'altro parte di pezzo senza come dire mai negare la responsabilità della politica che è sotto gli occhi tutti evidente ma anche di un altro pezzo del paese secondo me su cui dobbiamo lavorare bene grazie concludiamo questa diciamo prima tavola rotonda e proseguiamo con la seconda in programma che eh cerca di mettere a fuoco appunto a che punto siamo cosa c'è cosa serve l'abbiamo eh detto più volte anche interloquendo col professore eh De Placido ci sono circa trecentocinquanta persone collegate su Zoom e su Facebook eh abbiamo messo un po' a fuoco il nodo delle carenze di personale del rapporto tra gli abbi e spocche della capillarità eh dell'assistenza che sono eh gli elementi centrali eh nell'ambito delle reti oncologiche regionali per garantire eh sostanzialmente questa omogeneità di cure e l'accesso a queste nuove cure uno uno dei cruci eh di un paziente che eh a cui viene fatta la diagnosi di eh neoplasia o di tumore è quella eh della possibilità di accedere alle terapie più innovative eh che tipo di eh eh che tipo di eh diciamo eh cure posso ricevere posso avere eh quelle che eh sono eh identificate come le più innovative quelle più efficaci per il mio cancro perché in un centro viene garantito un farmaco e in una sperimentazione a cui io eh non posso accedere non posso ricevere quella quel tipo di innovazione queste sono le domande che si pongono i pazienti e a queste eh diciamo proviamo a a dare una risposta rispetto a quello che in termini politici organizzativi strutturali strumentali eh e di ricerca e di di clinica su al letto del paziente vi è in fatto per garantire invece questa omogeneità di cure in regione Campania insieme alle altre regioni del sud perché oggi ci occupiamo di regioni del sud è stata messa su una rete anche tra interregionale in grado di eh determinare una massa critica di diciamo di 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 approccio alla alla malattia tumorale che mettesse a maggior sistema proprio queste competenze queste capacità e queste opportunità per tutti i pazienti poi per quanto riguarda la rete eh oncologica campana è stata messa eh in piedi una un sistema attraverso il quale il reputamento dei pazienti e la presa in carico avviene con un meccanismo per il quale oggi la maggior parte dei pazienti che ricevono la diagnosi tumore riescono ad avere un accesso ad una visita da parte di un gruppo oncologico multidisciplinare costituita da un clinico da un chirurgo da un radioterapista con un infermiere case eh manager che guiderà questo paziente e gli darà accesso in tempi giusti a tutte eh le le fasi che richiederanno prima la conferma di agnotica e poi la terapia eh quindi in questa seconda tavola rotonda avremo probabilmente anche l'intervento di Alfredo Budiglion che è il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Tumori di Napoli che è un IRCS monospecialistico per le patologie oncologiche e eh appena sta eh collegato e disponibile lo eh convocheremo e iniziamo con Renato Bisonni che di Bisonni che è direttore dell'oncologia dell'ospedale di Fermo coordinatore eh Cipomo che è l'associazione dei dei medici oncologici eh oncologi scusa eh ospedalieri di Marche e coordinatore del eh network dell'associazione di eh volontariato di Marche. Grazie grazie per l'invio dell'opportunità di essere qui agli Stati Generali. Eh io lavoro nelle Marche eh le Marche in questo momento è un periodo di transizione e proprio in maniera strutturale avevamo una asur unica adesso stiamo trasformando in diverse asur territoriali avendo visto che un'asur unica in un'unica regione non riesce a gestire tutte le problematiche le vede troppo accentramento si magari ci garantisce un accesso ai farmaci con una condizione dei costi ma poi si è un po' lontani dalla dei cittadini cittadini eh se ne dispiacciono cioè da noi abbiamo difficoltà per esempio con un pub più unico che c'era fino adesso da gestire eh potevi chiamare nell'idea era anche buona chiami il CUP hai bisogno di un attacco urgente però magari te la mandano a fare a 80 km di distanza perché lì è il primo posto quindi eh i cittadini non sono molto contenti si devono rivolgere al al privato per poter soddisfare il loro bisogno quindi in qualche maniera ora stiamo cambiando la nuova eh giunta regionale ha messo mano a questa cosa avremo speriamo che quello che verrà fuori sarà migliore non lo so in questo momento che è una cosa nuova e le marche tra l'altro non ha neanche una rete oncologica eh strutturata abbiamo una rete di professionisti ci conosciamo essendo pochi cioè ci conosciamo assolutamente tutti abbiamo riunioni costanti e ci vediamo sempre ma una rete formale eh gestita da regione non c'è per cui anche qui c'è una un po' di problemi che in qualche maniera dovremmo risolvere ma eh proprio le dimensioni della regione fanno sì che eh non ci siano particolari problemi di accesso a farmaci grazie a tutta questa struttura le avevamo le abbiamo superati tutte le tutte le unità operative di oncologia presenti sul territorio danno tutti gli stessi farmaci non abbiamo particolari problemi diversi invece eh quindi farmaci innovativi sì per tutti sperimentazione prima lei diceva eh non i pazienti vorrebbero entrare in sperimentazione ecco io qui ci vorrei fare un piccolo un piccolo ragionamento la sperimentazione io in questi vent'anni di di lavoro ne ho viste tantissime e le posso esegurare che poche sono quelle che poi vanno a regime quindi molto spesso non sempre il farmaco di sperimentazione è il miglior farmaco per quel paziente perché è proprio una sperimentazione altrimenti sarebbe un farmaco innovativo ecco quindi non l'idea che è anche compito culturale di dire che sì è importante sperimentare è importante fare ricerca nella maniera più assoluta ne sono assolutamente promotore ma bisogna chiarire bene e chiarire bene ai pazienti che forse quel farmaco non è il farmaco che potrebbe nella sua idea perché i nostri pazienti hanno sempre l'idea che un farmaco serve per guarire o per vivere chissà quanto beh noi abbiamo parametri molto diversi gli oncologi hanno parametri diversi un farmaco viene ehm messo in commercio se da un mese e mezzo in più di sopravvivenza generale un mese e mezzo in più che forse per un paziente non è tanto per noi sono i piccoli passi incrementali che poi ci portano a lunga sopravvivenza ma FDA approva un farmaco si dà un mese e mezzo in più di sopravvivenza e quindi sa quando poi ne riparla il paziente glielo dici c'è ma come ma è così e quindi abbiamo sempre molta delusione poi quando si entrano nel dettaglio perché un conto sono le eh le i pensieri un conto sono ciò che ci costrui che i pazienti costruiscono che la società costruisce sopra poi in realtà la realtà si traduce numeri diversi in maniera diversa dobbiamo abbiamo poi la necessità di doverla eh far capire far capire che questo che noi stiamo facendo prima dei lati che sono in fase avanzata è un processo di accompagno di sostegno di eh incrementazione mh che non va così rapida come invece pensiamo voi o vorremmo che fosse non è così ed è compito nostro è compito di tutti i giorni che lo abbiamo nei nostri ambulatori e poi vorrei fare un'ultima un'ultima eh sottolineatura nel come io insieme alla professoressa Berardi mi sono ci siamo inventati il forum della Marcangola il Marla Marcangola non è altro che un forum in cui tutte le associazioni di volontariato è presente nel territorio marchigiano ci possono riunire per fare massa critica perché le associazioni persone per lo meno le nostre regioni le associazioni sono di volontari sono di qualche decina di persone non di più ma se tu le metti tutti insieme quando ce ne metti quattrocento quaranta cinquanta diventano cinque sottocento persone attive sul territorio e diventano importante quindi fai massa critica e puoi anche rivolgersi all'esponente eh regionale eh che eh all'effettore regionale ecco questo però è qualcosa di estremamente importante è una gamba che il sistema sanitario nazionale non può fare a meno perché molta assistenza attività eh di presa in carico al domicilio oppure di counseling o di ehm scambio di opinioni perché ce ne sono se voi pensate io ne ho quaranta ma si va da quelli che vanno a casa dei pazienti a fare terapia terapia a quelli che invece fanno gruppo di sostegno quindi sono molte sono varie ma io vi chiedo e questa è una domanda che vorrei in qualche maniera rivolgere anche a tutti gli altri tutte queste associazioni volontariato che ci sono non è l'indice che qualcosa non va lo sistema eh il il nostro la nostra nazione un stato di diritto ha per definizione che ha il diritto della cura e perché ci dobbiamo rivolgere ai volontari perché lo stato non va fino in fondo il suo dovere perché è necessario che crescano tutte cioè ne crescono una ogni 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 mese ne trovi una nuova e allora forse c'è qualcosa che manca perché è evidente no altrimenti non nascerebbero abbiamo fatto tutto stiamo facendo tanto pensiamo alla sperimentazione pensiamo farmaci innovative ma poi sul pratico andiamo abbiamo bisogno del gruppo di sostegno poi non riescono a esprimersi erano queste le mie considerazioni grazie grazie mille eh abbiamo io do la la parola immediatamente a Vincenzo Adamo che è della direzione scientifica oncologica dell'azienda ospedaliera Paparto Messina e coordinatore della rete oncologica siciliana dottor Adamo è collegato prego sì sono collegato grazie di averla qui con noi e grazie ancora una volta per questi interessanti inviti eh io ho ascoltato alcuni interventi anche anche quest'ultimo del collega Bisogni e credo che comunque il vostro cioè il punto di 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 domanda che punto siamo eh che cosa c'è cosa serve eh qual è la modalità migliore in un rapporto di rete se ma mi state sentendo o si è persa la no no la sentiamo perfettamente non vedevo più l'immagine ehm Lab Spock il la capillarità dell'assistente direi che sono gli argomenti eh tardi neanche di un di un prossimo futuro organizzativo per quanto riguarda appunto le terapie oncologiche specialmente le terapie oncologiche di nuova generazione terapie innovative e eh senza dubbio uno degli aspetti che eh mi piacerebbe mi piace sottolineare è il il quale modalità migliore c'è nell'ambito di una di una rete eh adesso con le reti oncologiche eh il territorio nazionale eh diciamo che sta migliorando le sue opportunità ehm molti sanno perché ci siamo collegati tante volte che anche nella nostra Sicilia abbiamo una rete oncologica oggi attiva il ventitré novembre abbiamo tra l'altro presentato i dati di lavoro del lavoro degli ultimi tre anni abbiamo presentato anche la pagina una pagina interattiva che va su un sito che si chiama costruire salute che è all'interno della dell'assessorato della salute della regione siciliana ed è un sito dove appunto vengono individuati i riferimenti in questo momento delle cinque patologie più importanti sono i primi cinque PDTA che abbiamo concluso completato de con decreti assessoriali con individuazione dei centri specialistici noi li abbiamo chiamati centri specialistici o AB e centri erogatori o ehm SPOC e eh attraverso questa pagina adesso i nostri eh soprattutto i nostri cittadini e le nostre cittadine ma gli operatori sanitari i colleghi della medicina generale i colleghi specialisti d'organo specialisti per patologie possono collegarsi e andare a verificare eh che cosa c'è in quel sito che cosa si riesce a fare per la patologia della mammella abbiamo diciassette breast unit attivate per la patologia del polmone ci sono otto centri sei centri specialisti e due monitorati ehm per il tumore dell'ovai in Sicilia ci sono quattro centri specialistici individuati e comunque sempre sotto monitoraggio così per il coloretto e per la prostata e continueremo per gli altri perché sono partito da qui perché adesso il momento più importante noi abbiamo lavorato questi tre anni per eh sviluppare e consolidare i PDTA adesso stiamo lavorando è stato decretato il PDTA per la tiroide anche per il mesotelioma stiamo lavorando sugli epatobiliari sul melanoma e sulle cure palliative e noi comunque avevamo già dei PDTA precedenti come quello cardio-oncologico attivo in Sicilia e anche quello dei tumori rari perché sono partito da questo perché adesso la ehm dopo questo sforzo importante dove siamo andati anche ad individuare appunto eh centri qualificati quando parliamo di centro qualificato intendiamo un centro dove almeno ci siano le tre anime fondamentali di una multidisciplinarietà cioè la chirurgia l'oncologia medica la radioterapia ma poi la multidisciplinarietà naturalmente molto più complessa e più completa in questi centri specialistici quindi dalla dal patologo al patologo molecolare al genetista e anche alla presenza eh di altre figure importanti nell'ambito della multidisciplinarietà dopo questo primo percorso estremamente importante il percorso adesso che 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 abbiamo davanti e che è quello che per far diventare operativa la rete oltre che la pagina attraverso questa pagina si può vedere quello che esiste dentro la Sicilia in questo momento è la piattaforma informatizzata per ehm col per il collegamento corretto e per la raccolta dei dati perché eh l'aspetto fondamentale nel monitoraggio perché noi tutti questi centri specialistici eh li stiamo e verranno monitorati dalla stessa commissione della rete ecologica siciliana con i vari referenti e mi riallaccio proprio a anche alla domanda precedente che cosa serve eh cosa serve ehm quale quale può essere la migliore integrazione fra il terzo settore l'industria allora serve servono risorse ecco il mio collegamento molto importante ehm ehm e lo sottolineo sempre in ogni mio intervento anche perché nell'ultima verifica di Agenas che ha fatto sulle reti oncologiche regionali tra cui ha fatto anche quella della Sicilia ma era ancora una rete eh diciamo embrionaria embrionale diciamo una fase embrionaria quando è stata verificata però uno dei se voi andate a vedere il report alla fine di ogni valutazione delle varie reti ehm molte valutazioni viene sottolineato la mancanza di una programmazione economico finanziaria per il sostegno di una rete parlo delle varie regioni al di là di alcune un po' più virtuose come può essere la Toscana come può essere quella del Piamonte che comunque per esempio ha avuto anche lì un brutto colpo perché erano stati stanziati eh tanti tanti euro per sostenerla e poi eh improvvisamente quella quella voce di bilancio è finita da un'altra parte e questo lo so perché lo hanno anche ehm diciamo documentato e eh e sottolineato i colleghi i colleghi dei Piamonte quindi l'aspetto che è stato anche da Agenas che come sapete ha il ruolo di verificare le reti oncologici regionali in tutto il territorio nazionale viene fuori quasi sempre questo cioè come si fa a sostenere una rete la propria attività con la piattaforma con gli informatici con la raccolta dei dati con il collegamento adeguato eccetera e quindi ecco qui l'aggancio poi naturalmente concludo questo mio intervento l'aggancio alla al terzo settore l'aggancio all'industria cioè quali possono essere le modalità per trovare oltre che una modalità di trovare finanziamento di trovare risorse e quando parlo di risorse intendo di risorse umane e naturalmente tecnologiche ma prevalentemente qui parliamo veramente di risorse umane anche e voi sapete meglio di me che il PNRR di risorse umane ne vede poche la maggior parte sono tecnologiche strutturali eh eccetera ambientali ma poco risorse umane anche se poi a alle regioni è stato lasciato un minimo di autonomia per vedere se nell'ambito delle progettualità può trovare si può trovare anche questo però qui possono venire incontro proprio le strutture del terzo settore mi riferisco a proprio diciamo alle strutture esterne faccio l'esempio di una fondazione una fondazione all'interno di una regione una fondazione che sia una fondazione regionale dedicata all'oncologia noi in Sicilia ne abbiamo una e eh che abbiamo ehm che 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 sta iniziando a lavorare ma viene fuori da un percorso molto lungo di attività nelle varie associazioni adesso è una fondazione si chiama fondazione siciliana per l'oncologia e una delle delle mission potrebbe essere quella di trovare un ehm substrato per ehm il sostegno delle reti oncologiche questo è uno degli obiettivi nel prossimo futuro che eh faremo nella nostra nella che porteremo avanti la nostra regione perché adesso il passaggio più importante è il sostegno il supporto per il buon funzionamento di una rete noi abbiamo fatto veramente dei passi molto importanti e l'organizzazione ora non dico che è ottimale però siamo veramente messi eh diciamo su una situazione ora ehm molto migliorata abbiamo ehm questo network perché abbiamo trasformato la prima idea di modello ABESPOC in un modello di eh comprehensive network con centri specialistici e centri erogatori insieme perché eh eh il dato che ci veniva fuori è che dentro una un'area metropolitana ci possono essere tre quattro centri specialistici però ci possono essere tanti e ci sono tanti centri erogatori facciamo riferimento alle oncologie mediche ben funzionanti facciamo riferimento come centri erogatori alle radioterapie ben funzionanti tornando al punto che mi 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 interessava sottolineare è quello proprio del supporto del sostegno e una delle idee che sicuramente porteremo avanti nel prossimo futuro è quello di poter affiancare e e creare come sostegno alla rete eh eh un'espressione del terzo settore ho fatto l'esempio della di una fondazione ma potrebbero essere anche altre situazioni bene bene molte molte grazie per il suo intervento abbiamo eh diciamo un po' toccato tutti gli argomenti che erano fissati da questa tavola rotonda ma ancora mancano eh manca un pezzo eh intanto eh Alfredo Budiglione che è il direttore scientifico dell'istituto oncologico pascale eh di Napoli eh ci ha annunciato che potrebbe collegarsi tra un po' compatibilmente con con i suoi eh precedenti impegni però rispetto a a uno dei temi che erano eh focalizzati in questa tavola rotonda ossia eh quali attività e competenze e quali terapie in ambito oncologico sarà opportuno demandare al territorio prima abbiamo fatto cenno alla continuità dell'assistenza del momento in cui la fase acuta viene superata l'intervento chirurgico viene eseguito il trattamento intensivo e acuto per un paziente oncologico viene assicurato poi abbiamo grossi problemi eh in tutte le regioni in particolare al sud nel garantire eh diciamo a questo paziente una continuità di cure con la stessa intensità o quantomeno con la stessa tempestività sul territorio ci sono accordi con i medici di medicina generale fatti dalla rete oncologica campana c'è questa piattaforma informatica che lega un po' tutti gli anelli di questa catena di di cure che rappresenta una sorta di tessuto connettivo però non tutti i medici famiglia hanno aderito a questa a a questa rete o almeno non ancora eh e c'è il problema del del fatto che alcuni pazienti che sono eh sottoposti ad una riacutizzazione che diciamo vanno incontro a una riacutizzazione o a uno scompenso eh legato alle alle terapie eh eh è costretto spesso ad andare in un pronto soccorso dove evidentemente si configura una prestazione impropria deve affrontare tutta la trafila e le attese che riguardano poi i vari codici di urgenza che vengono attribuiti senza tenere in alcun conto eh o comunque senza conoscere la storia clinica di questo paziente vuoi perché il fascicolo sanitario elettronico in Italia è ancora eh diciamo ha attuato ed adottato in maniera eh macchia di leopardo in maniera non omogenea vuoi perché eh questo paziente è seguito evidentemente da clinici eh da un gruppo di clinici e di eh eh di chirurghi che lo hanno lo conoscono lo hanno operato che in quel pronto soccorso non ci sono quindi tutti questi tutti questi aspetti vorrei che di tutti questi aspetti ci parlassero eh 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 Lorenzo Latella eh che è segretario regionale di cittadinanza attiva Campania e e anche Fabrizio Capuano che è il delegato regionale della Favo Campania prego Lorenzo subito dopo sentiamo eh Fabrizio Capuano Buonasera buonasera ehm anzi sono affrontati una serie di di temi vorrei ripercorrirli veramente velocemente prima in quello dell'accesso ai farmaci noi effettivamente in regione Campania non abbiamo un grosso problema di accesso ai farmaci il sistema è stato costruito bene al di là di qualche piccola criticità e di qualche tempistica che potrebbe essere migliorata però lo stesso professore De Placide insomma ci ha detto che effettivamente rispetto solo a qualche anno fa la regione Campania è andata molto forte così come la costruzione della rete oncologica garantisce oggi una certa capacità nella nostra regione di prendere in carico pazienti sì dal momento del sospetto oncologico ehm con una ristrutturazione che è stata notevole nella regione mi ricordo che c'erano più di novanta centri ospedalieri che si occupavano di oncologia oggi se non erro con i dati sono ventitré con una specializzazione per per ogni centro al di là poi del del Pascale che chiaramente è un istituto eh dedicato ehm la costituzione dei gomma ha dato grandissimo impulso alla capacità dell'intero sistema di prendere in carico i pazienti in tempi certi eh ed efficaci eh questo però eh avviene nel trenta per cento dei casi di nuove diagnosi oncologiche nella nostra regione quindi c'è un tanto lavoro da fare perché il settanta per cento dei nuovi casi oncologici regione campagna non entra all'interno della rete oncologica e prevalentemente rispetto al problema che dicevi tu prima cioè la capacità della medicina generale di aderire alla rete oncologica gli ultimi dati che ho a disposizione sono che su quattromila medici di medicina generale cinquecento hanno fatto il corso per eh avere le credenziali della rete oncologica quelli attivi sono cento quindi solo cento su quattromila utilizzano poi la 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 rete oncologica effettivamente questo è un grande problema che bisognerà affrontare bisognerà affrontare anche in vista della nuova ristrutturazione della medicina territoriale dopo l'applicazione del DM settantasette con la la rete oncologica in particolare con questo appignata stiamo già immaginando una serie di corsi di formazione almeno ad uno dei rappresentanti di ogni FT o case della salute o di comunità come l'FT diciamo che sono le aggregazioni funzionali territoriali tra dei gruppi omogenei nell'ambito di ciascun quartiere delle eh di della medicina di di base di famiglia esattamente e almeno da avere un referente oncologico per ogni area eh geografica di di riferimento con una popolazione poi eh molto ampia e allo stesso tempo però si sta cercando di risolvere quelle che sono delle criticità mi fa piacere che ci sia Fabrizio Capuano perché all'interno dello stesso tavolo eh legate a una omogeneizzazione della fase diagnostica della fase di presa in carico poi ospedaliere della gestione del follow up successivo sul quale entrano tutta una serie di dinamiche in particolare siamo impegnati in un tavolo per eh la stesura dei nuovi PDTA polmone e mammella che prevedono anche l'applicazione generale di regione in quello che è definito generalmente il modello meldola c'è la possibilità di individuare i singoli centri che devono occuparsi della fase diagnostica e della fase poi successiva di specialistica ambulatoriale per la prosecuzione della cura del paziente sul sul territorio una sfida enorme della regione insomma eh abbracciato a condiviso con con le associazioni stiamo portando avanti speriamo di andare in sperimentazione eh a gennaio restano però una serie di criticità nell'intero sistema eh regionale e nazionale eh quello che dicevate prima la sostenibilità questa è una regione che ancora spreca tantissimo che drena risorse in una serie di settori che non ne hanno bisogno penso quanto sia necessario per esempio rivedere tutti i PRG faccio un esempio su tutti e faccio sempre noi uno stand continuiamo a pagarlo cinque mila euro quando sul mercato ha un costo di cinque cento euro e già lì quanti ne facciamo ogni anno e quanto potremmo recuperare e destinare ad altro l'altro problema enorme è la governance noi oggi ci candidiamo così come queste le regioni ad applicare il DM settantasette con la stesso livello di governance che non è stata capace di applicare pienamente il DM settanta o le altre piccole riforme che sono state fatte in ambito sanitario c'è un problema di amministrazione pubblica in questa regione che non è tanto ai livelli abituali io sono d'accordissimo con quanto si diceva prima che i direttori generali sanitari e amministrativi sono ottimi eh manager della della nostra sanità poi sotto di loro c'è un un esercito enorme che probabilmente non è adeguato ai tempi attuali e che bisognerebbe un attimino rimpolpare con una nuova emissione di personale nella nella cosa pubblica e concludo eh dicendo che la sfida è ancora molto molto ampia che le associazioni purtroppo continuano ad esserci e continuano a moltiplicarsi proprio perché all'interno di una filiera che è così complessa i gli elementi di pallacia di tutta quanta la filiera sono troppo ampi e noi oggi abbiamo uno dei problemi principali che è quello legato all'accesso alla specialistica ambulatoriale le nostre liste d'attesa in campagna dopo le ultime riforme che in generale possono essere anche condivisibili del del disegno regionale purtroppo hanno creato delle delle fratture all'interno del sistema e e delle fratture anche e soprattutto per i pazienti oncologici che troppo spesso non riescono a fare le visite propedeutiche eh ai controlli perché il sistema delle liste d'attesa oramai in questa regione è saltato per una serie di vicende che non stiamo qui eh ad approfondire questa è una grande sfida perché abbiamo una eh straordinaria capacità clinica di regione campagna che non sostituirei con quella di nessun'altra regione perché la qualità dei nostri clinici è veramente altissima il problema che riuscire ad accedere a quel percorso diventa sempre più più complicato e il problema di accesso è molto legato alle criticità che ci siamo detti prima quindi anche al al livello di eh di governance e alla capacità di un intero sistema di guardare all'oncologia come un sistema organico e non come un singolo silos che ogni volta deve essere affrontato. Ok grazie grazie a Lorenzo Latella come sempre puntuale su i punti che abbiamo un po' sollevato eh il fatto che la regione Campania abbia fatto passi avanti da giganti da gigante sulla sua eh rete oncologica regionale eh è un dato di fatto eh intanto salutiamo eh il dottor Facchini Gaitan Facchini direttore dell'unità operativa complessa di eh oncologia della As Napoli Due Nord del presidio ospedaliero Santa Maria delle Grazie eh di Pozzuoli eh farei intervenire prima come avevo eh annunciato Fabrizio Capoano del delegato regionale Favo Campania che è collegato su Zoom eh rispetto a questi temi della continuità eh delle cure tra ospedale e territorio che è un tema che non riguarda soltanto la Campania che riguarda un po' tutte le regioni ma in particolare quelle del sud eh dove eh nella nostra sanità il segmento il pilastro della sanità territoriale è un pilastro più fragile proprio perché si è investito molto sugli ospedali pensiamo anche alle regioni del nord in cui la ospedalocentricità è diventato poi un punto debole durante la pandemia da covid diciannove in quanto eh eh diciamo l'eccellenza raggiunta sul piano del dell'offerta di cure a livello ospedaliero eh ha pagato pegno alla stagione dei tagli nel nostro servizio sanitario che riguardava soprattutto il versante territoriale delle cure non ha risparmiato nessuna regione se vogliamo tant'è che il PNRR punta mh a investire in questo settore ma siamo lontani da una idealità diciamo di 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 offerta eh diciamo di cure quindi sentirei Capuano e poi subito dopo eh vediamo eh se c'è Budillon oppure proseguiamo con con gli altri stellatori. Buonasera a tutti eh mi sentite? Sì la sentiamo perfettamente. Ok grazie eh innanzitutto grazie per l'invito. Eh allora rispondere alle domande di Ettore Mautone non è semplicissimo in in tre secondi onestamente. Allora eh faccio una breve premessa anche io ritengo che la regione Campania abbia fatto un lavoro stratosferico a partire dal duemilasetti una scommessa eh non di poco peso in termini soprattutto di onere della responsabilità di chi eh si è lanciato in questa sfida eh e che effettivamente noi abbiamo rivoluzionato culturalmente ed operativamente un modello di cura siamo passati da un'organizzazione molto parcellizzata, molto frammentaria eh sul territorio, a una presa in carico diciamo eh di singolo professionista nella migliore dei nella migliore dei casi a una successiva sommatoria di presa in carico di professionisti diversi invece è un modello di visione assolutamente globale eh veramente dal to cura come dicevano gli angeli per certi versi eh è chiaro che diciamo la rete funziona al meglio se tutti gli stakeholder coinvolti nella rete eh sono diretti verso lo stesso obiettivo ovviamente nel rispetto della delle proprie caratteristiche di individualità io fino al duemiladiciannove quindi pochi mesi prima che esplodesse la pandemia che certamente è stato un grande spartiacco però non deve essere neanche eh un paravento ad altro generi di responsabilità sentivo parlare in molti eventi dei legati al management sanitario ancora di eh trasferire gli ospedali delle ASL dalla responsabilità del territorio alla responsabilità delle aziende ospedaliere perché questo avrebbe ehm ha determinato sicuramente una razionalizzazione delle spese e eh qualità delle cure eh superiori avremmo così diciamo svuotato completamente il territorio invece di ehm capacità che sono eh che sono essenziali. In regione campagna negli ultimi quindici anni tra piani di rientro, spending review, federalismo in sanità si sono ridotti in maniera eh esasperata i posti letto sul territorio, si sono chiusi strutture che forse effettivamente costavano troppo rispetto a quello che producevano, si sono chiusi pronti soccorsi, eh la medicina di base non è riuscita ad assorbire tutto il carico di lavoro e adesso ci troviamo in una situazione come quella eh come quella attuale. Come si fa a recuperare eh il terreno perduto o meglio a rinnovare eh una un servizio sanitario organico strutturato in questo modo? Francamente io eh sono scettico sulla possibilità di utilizzare eh per quanto riguarda soprattutto le piante organiche eh le risorse economiche che saranno messe a situazioni al PNR e non credo neanche che siano effettivamente utilizzabili per questo e come diceva il professor De Placido all'inizio noi abbiamo una una grossa questione eh da affrontare eh nel piano oncologico, nell'eritio oncologico ma in generale in tutto il modello organizzativo della sanità con la digitalizzazione dobbiamo eh portare dentro l'organizzazione professionalità che in questo momento sicuramente non esistono nelle piante organiche degli ospedali e che probabilmente non esistono neanche nelle scuole attuali di formazione che sono disponibili sul territorio. Quindi in realtà oltre a quanti soldi ci servono per avere i case manager, per avere eh nutrizionisti, per avere data manager, per avere eh informatici che sappiano gestire e far dialogare tutte le piattaforme che le varie categorie di eh specialisti che lavorano direttamente alle dipendenze del servizio sanitario nazionale o per il servizio sanitario nazionale come accade per esempio con la medicina di base o il privato convenzionato che in regione Campania con una delibera devo dire molto molto intelligente è stato inserito all'interno della rete perché altrimenti non saremmo stati in grado di reggere l'urto della massa di pazienti che ritornava a chiedere prestazioni dopo il covid eh non solo diciamo quanti soldi ci vogliono per tenerli eh operativi ma quanto tempo ci occorre per metterli nelle condizioni di rispondere ai bisogni della nuova macchina organizzativa ai bisogni dei pazienti. Per quanto riguarda la rete oncologica devo lo devo a tutti i pazienti che ci contattano oramai da gennaio a sottolineare questa aspetto. Purtroppo c'è una eh criticità importante non tanto sulle liste d'attesa a cui tutto sommato i cittadini campani erano già abituati anche prima del covid ma sulla questione della eh gratuità delle prestazioni di diagnostica nucleare che vengono prescritti ai pazienti dai gomma. Quindi sono prestazioni che devono essere erogate sicuramente che sono sicuramente richieste in appropriatezza da PDTA e che devono essere erogate in un termine ehm diciamo inderogabile altrimenti tutto quello che è stato previsto dal PDTA in termini di migliori chance di cura viene perso. Una gran parte dei cittadini eh campani è costretta a ricorrere privatamente a queste prestazioni. Eh è chiaramente una questione di carenza di risorse fuori discussione però anche qua è arrivato il momento di assumersi una responsabilità di eh di fare una scelta eh anche diciamo difficile per altre eticologie di pazienti. dobbiamo rimboccarci le mani e trovare un sistema in attesa che riusciamo a realizzare i PAC all'interno di tutti i corpus corp in modo che il paziente che viene preso in carico dall'inizio sa che non sarà lasciato solo mai per nessuna prestazione di cui ha necessità. Trovare un sistema per evitare che queste che tante di queste persone vadano sul mercato privato dove oggi do eh questo questo numero una risonanza magnetica viene fatta pagare al paziente tra i cinquecento e gli ottocento euro. Credo che di questi tempi una persona che deve spendere ottocento euro per farsi una risonanza magnetica per sapere il suo tumore a che sta a che tipo di cura deve accedere oppure se può continuare a ad avere dei sogni abbastanza tranquilli si trova a dover fare una scelta molto dolorosa tra diciamo il suo interesse personale e l'interesse dei suoi figli. Su questo bisogna trovare molto rapidamente una soluzione. Le associazioni come ha detto anche Lorenzo sono sempre disponibili al confronto, un confronto cooperativo e proattivo sicuramente possiamo immaginare una serie di proposte e poi certo compete alla politica la scelta su dove andare momentaneamente a spostare risorse da ogni sogno ad un altro. Più che altro di priorità in questo caso direi. Diamo un vantaggio alla priorità del paziente oncologico o lo dico con una battuta provocatoria alla persona che non sa come mai dopo dieci lezioni dal messo in tennis ancora non fa il diritto come gioco dici. Questa è la scelta che dobbiamo fare. Grazie. Grazie. Grazie a lei dottor Capuano e abbiamo collegato come abbiamo annunciato prima Alfredo Budillon che è il direttore scientifico dell'Istituto Pascale eh di Napoli. Eh lo invito a a collegarsi. Eh il tema eh è quello appunto della dell'innovazione e della ricerca. Mh l'Istituto Tomori è eh lab principale della rete oncologica campana eh luogo e sede di assistenza di ricerca eh di ricerca traslazionale ossia quella che viene trasferita dai laboratori al paziente ed è anche eh uno strumento che in questi anni si è fatto carico della rete oncologica campana portandola eh diciamo eh anche a superare i confini eh della della regione campania. Eh la carenza di personale sicuramente è stata quella che eh uno dei nodi da sciogliere ma anche eh la omogenità, la capillarità dell'assistenza abbiamo sentito dalla voce eh di chi sta un po' dall'altra parte rispetto eh a a questo disegno di quanti eh di quanto la regione campania abbia fatto passi avanti in questo senso ma a cosa c'è ancora da fare? Eh e e quali sono gli anelli deboli di questo sistema anche definito in un in un sistema di reti macro regionale? Prego Alfredo. Sì direttore grazie eh diciamo grazie dell'invito io eh purtroppo mi sono collegato tardi ho sentito però in parte l'intervento di Fabrizio Capuano che mi dà anche un assist per confermare quanto lui diceva eh però ritornando alle cose che ehm diciamo eh mi indicavi e mi chiamavi a discutere fermo restando ovviamente che il mio ruolo nella direzione strategica dell'istituto è un ruolo che guarda molto e prevalentemente alla prospettiva e al futuro alla eh ricerca come eh possibilità offerta eh e nuove opportunità offerte al paziente eh alla ricerca che poi deve diventare eh pratica clinica eh in oncologia lo 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 avete scritto anche nella premessa a questo convegno eh abbiamo un campo che da un punto di vista tecnologico e di novità è in continua evoluzione ed è difficile starci dietro eh sia come oncologi e professionista e sia come eh diciamo eh adeguamento eh come dicevi tu da parte delle istituzioni e dei ehm dei eh dei founders nostri in questo caso la regione campania o anche il ministero per adeguare questa innovazione tecnologica e questo mondo in continuo divenire rispetto eh alle eh opportunità eh diciamo offerte al ehm offerte al paziente. Eh ehm ho partecipato eh questo fine settimana per esempio a un meeting eh sui tumori gastrointestinali dove si ricordava come il panorama italiano e la discussione che noi affrontavamo eh rispetto alle opportunità che ci venivano appunto dagli studi e dall'introduzione nella pratica clinica eh di una serie di eh nuovi farmaci, nuove strategie, nuove combinazioni ehm vedeva l'Italia come un unicum spesso sicuramente rispetto al panorama eh d'oltreoceano per esempio dove nonostante appunto l'approvazione chi si poteva permettere chi si può permettere alcuni ehm alcuni tipi di trattamento eh li fa e se no diciamo è tutto appiattito rispetto a a quello che poi passano le assicurazioni sanitari. Eh e guardate questa non è neanche diciamo una una questione banale nel panorama europeo dove per esempio eh in molti paesi le opportunità che noi comunque offriamo nel nostro sistema eh sanitario pubblico a grandi costi per il eh il nostro sistema sono abbastanza sono abbastanza uniche e mi sembrava importante diciamo indicarlo eh ovviamente questo ha comportato anche una serie di innovazioni per esempio sui nuovi farmaci eccetera e su questo siamo sicuramente avanti ma probabilmente noi dobbiamo guardare in prospettiva. Dicevo le mie responsabilità della direzione strategica sono appunto prettamente a questo guardare oltre. eh domani interverrà interverrà Maurizio Di Mauro il nostro direttore sanitario nella tavola rotonda che in realtà attiene molto di più a questa a questo futuro però io insomma non mi sottraggo a quanto chiedeva Ettore. Eh la rete ne stavate parlando anche voi sicuramente è una grandissima eh novità eh che si è andata rafforzando e costruendo nel tempo e oramai eh diciamo eh per chi eh a cominciare dai pazienti ne beneficia è sicuramente eh un grandissimo supporto la presa in carico, la tempistica della presa in carico, l'accompagnamento dopo la gestione acuta ehm per il paziente domiciliare e via dicendo sono sicuramente eh grandissime innovazioni per i pazienti. Ovviamente ci sono tantissimi nudi, Capuano lo ricordava perché la rete oncologica guardando a una presa in carico a tutto tondo eh vede una serie di figure professionali che intervengono nei vari PDTA come ben sapete eh lui accennava i nutrizionisti ma posso parlare del supporto psicologico per esempio che diventano eh fondamentali e per altro sono quelle figure eh che eh hanno difficoltà a essere inquadrate nel sistema sanitario nazionale e accanto a queste figure noi stiamo vivendo le stesse difficoltà ad esempio per tutte quelle professionalità che invece sono impegnate nella ehm nella ricerca clinica e assistenziale e c'è nella ricerca diciamo eh più avanzata non solo quella traslazionale e quella di base eh tante figure che comunque sono di supporto ma anche tante figure che per esempio sono di supporto a tutti i test eh genetici che sono fondamentali per dare al paziente opportunità per accedere a a terapie innovative e che eh diciamo impattano eh sulla eh sulle sulle nostre piante organiche e che abbiamo difficoltà se non eh stabilizziamo se non creiamo diciamo opportunità eh di 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 impiego in prospettiva a tempo indeterminato riusciamo eh rischiamo di di perdere eh e e guardate la ricerca eh e la ricerca clinica in particolare non è eh una questione eh diciamo ehm al di fuori delle discussioni che in qualche maniera stiamo facendo eh la Fiaso eh che è appunto come sapete l'organizzazione che racchiude le aziende sanitarie e ospedaliere ha organizzato eh tre giornate in tre città diverse Milano, Roma e si è conclusa qui a Napoli eh una discussione in cui ha coinvolto il direttore generale a confrontarsi sulle novità e opportunità della ricerca clinica eh opportunità e novità che non investivano solo eh istituzioni come le nostre che per missione oltre all' assistenza fanno anche ricerca ma investivano le stesse aziende sanitarie e eh addirittura in una delle relazioni eh c'è stata la provocazione di inserire la ricerca clinica tra gli obiettivi dei manager perché la ricerca clinica ehm oltre ad avere come obiettivo quello di poter eh offrire in ultima istanza novità e validare novità e opportunità per i pazienti eh eh crea un circuito virtuoso per le eh per le aziende da rinvestire ad esempio eh diciamo eh nel sostegno a a a varie altre figure professionali e quindi la necessità che le aziende si attrezzino da questo punto di vista ovviamente anche lì eh ci sono ci sono un sacco di problemi eh che attengono appunto come dicevo prima all'utilizzo di eh risorse umane eh professionali nuove eh non direttamente inquadrabili nel sistema sanitario nazionale eh di cui si dovrà tenere conto di cui le regioni dovranno eh in qualche maniera tenere conto penso agli stati coordinator penso ai data manager e a tante figure professionali che intervengono in tutta la la filiera eh di questo abbiamo aperto un'interlocuzione anche come istituto con la regione Campania così come nella necessità di potenziare eh le figure professionali di cui parlava Capuano a cui ho accennato abbiamo avuto un incontro con la dottoressa Romano per esempio durante un meeting eh organizzato qui a Pasquale in cui queste questioni sono state eh sono state discusse eh l'importanza dei case manager e l'importanza delle aziende di identificare i case manager e di avere le risorse necessarie per sostenerli e un altro punto su cui appunto abbiamo sottolineato e abbiamo e siamo intervenuti presso la regione per eh eh sostenere questi eh questi aspetti ehm sulla rete poi ovviamente eh noi dobbiamo guardare avanti nel senso che se la rete offre un'opportunità eh importante e e per chi eh utilizza diciamo questo strumento è sicuramente ehm diciamo una questione è sicuramente una grande opportunità bisogna anche dire che per esempio ehm rispetto ai medici di medicina generale che come sapete possono eh accedere alla alla rete e possono utilizzare la rete per come opportunità per i loro pazienti siamo ancora molto al di sotto delle potenzialità credo che eh circa cinquecento medici di medicina generale eh abbiano aderito lì credo che tra gli interlocutori c'è qualcuno che può intervenire eh su questo ne abbiamo parlato anche con alcuni degli interlocutori che sono qui presenti ne abbiamo parlato vedo la tela tra i tra i tra i tra i presenti eh ma insomma siamo ancora al di sotto rispetto ai quattromila e più medici di medicina generale che abbiamo più o meno in Campania eh si è discusso del fatto che si sta cambiando sta cambiando l'età media dei medici di medicina generale tantissimi medici stanno andando in pensione e bisognerebbe eh diciamo sostenere eh e incentivare eh la partecipazione dei giovani che accedono diciamo a queste posizioni rispetto alle opportunità della rete così come mh credo che l'esperienza eh del eh coinvolgimento delle strutture private accreditate nella rete è un'esperienza positiva io registro dalle discussioni con eh gli interlocutori all'interno dell'istituto che per esempio eh alle aziende eh private accreditate che eh hanno deciso di partecipare alla rete che quindi diciamo secondo il percorso si sono ehm fideizzate con alcuni dei corso dei corpus e quindi sono obbligate a discutere nel nei nei gomma interaziendale i casi prima di andare per esempio a un intervento chirurgico per verificare eh eventualmente un approccio multidisciplinare o la correttezza del percorso secondo il PDTA eh di riferimento è una grandissima novità di cui beneficia il paziente eh di cui beneficia tutto il sistema eh regionale eh e però ancora sono poche queste strutture e e questa secondo me però una è è una di quelle cose rispetto anche alla sostenibilità che è uno dei temi di cui state discutendo su cui poter ancora ehm insistere e e finisco dicendo che ehm poi e ritorno al mio mestiere di di direttore scientifico ho sempre detto a Sandro Pignata che la rete eh debba e possa diventare un'opportunità anche eh per quello sguardo verso il futuro e per ehm eh diciamo eh e opportunità per la ricerca. Già adesso abbiamo diciamo inserito nella rete la possibilità di eh nei vari PDTA di accedere a un database rispetto ai studi clinici attivi così da offrire eh un'opportunità per i pazienti che sono discussi eventualmente eh nel caso ce ne fosse eh questa possibilità di essere arruolati all'interno di studi clinici che come sapete per un paziente è sicuramente eh spesso e volentieri eh un'occasione in più. Eh però credo che la rete possa e debba servire anche per fare un altro tipo di ricerca. Penso alla ricerca che riguardi ehm la real eh eh la real world evidence eh noi abbiamo bisogno di ehm derivare dai dati della rete dalla grande applicazione che abbiamo sulla rete capire quanto questo impatta poi effettivamente sulla risposta al bisogno di salute oncologico dei nostri pazienti. Su questo ovviamente dobbiamo ancora ehm oltrepassare alcuni colli di bottiglie, alcune difficoltà. Penso per esempio alla digitalizzazione dei dati, al superamento eh di tutti quei problemi che derivano dal GDPR eh europeo eh sulla privacy, all'utilizzo dei dati, al fatto che non tutte le aziende hanno cartelle cliniche informatizzate, che non c'è eh eh diciamo un accordo su come utilizzare eh questi dati in via anonimata o aggregata. Insomma grandi temi che però volevo accennare e mettere eh al centro anche della 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 discussione della vostra discussione perché sono temi cui ogni giorno ho a che fare rispetto a eh diciamo possibilità di ricerca o eh per esempio la grande enfasi che mette l'Europa eh sui finanziamenti in questo senso ma poi ci scontriamo della nella realtà concreta eh di 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 poterli effettivamente derivare utilizzare questi dati e ripeto questi dati poi eh non sono solo diciamo a scopi di ricerca futura ma possono eh informarci su eh come effettivamente eh la rete impatta sulla 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 malattia e e sulle risposte che noi diamo alle malattie in regione campana. bene grazie ad Alfredo e che ringraziamo intanto per essere per essere stato con noi ha fatto un un una panoramica abbastanza dettagliata di quelle che sono le opportunità della rete e anche le difficoltà eh da superare rispetto ad un disegno dell'oncologia delle regioni meridionali che hanno visto negli ultimi anni protagonista proprio l'istituto Pascale che insieme al direttore generale Attilio Bianchi hanno messo in campo questa rete amore che ha coinvolto tutte le regioni del sud eh nell'idea eh appunto che attraverso questo sistema si potesse eh in qualche modo recuperare un gap eh organizzativo e anche di di densità di istituti di ricerca delle regioni del del nord in particolare attraverso un interconnessione pensando ad una rete oncologica nazionale come modello eh eh diciamo ideale di accesso perché eh se direte bisogna parlare appunto eh eh dovrebbe essere eh conformata rispetto ad un disegno che riguarda tutta l'Italia e e noi prima eh lo avevo annunciato abbiamo qui Gaetano Facchini che è direttore dell'unità complessa di oncologia dell'istituto della mh dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzoli parliamo dell'ASL Napoli due Nord l'ASL Napoli due Nord è una grande ASL nella regione Campania conta circa un milione di abitanti quanti eh diciamo l'area metropolitana di Napoli se non di più e l'ospedale di Pozzoli è negli anni diventato è un presidio territoriale quindi un presidio dell'ASL ma è diventato un ospedale eh di riferimento peraltro mi spiace che oggi non sia con noi eh Mario Fusco che mi ha mandato un messaggio che il coordinatore dei registri tumori della regione Campania che era chiamato per motivi familiari purtroppo non non ha potuto partecipare eh se ne era ammarica eh aveva già preparato dei dati eh la regione Campania con sette registri tumori compreso quello pediatrico del Santo Bono ha una capillare ormai copertura di rilevamento dei dati sebbene con un certo ritardo per la sola ASL Napoli uno e credo l'ASL di Avellino che scontrano un ritardo rispetto alla media nazionale dei registri tumori eh italiani e eh però eh da questi dati emerge proprio eh una mappa in qualche modo che non necessariamente è eh correlata a quella che noi chiamiamo la mappa delle delle zone eh siti di interesse nazionale per inquinamento ambientale. ossia abbiamo una maggiore incidenza di 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 tumori che sono in linea con quelli nazionali ma in linea soprattutto con le zone più industrializzate del paese mentre qui dove ci sono questi dati di maggiore incidenza e di maggiore mortalità soprattutto che è il dato esaliente e eh evidentemente non ci sono queste eh diciamo eh strutture emittenti eh come può essere l'ilva di Taranto piuttosto che altre zone eh diciamo altamente industrializzate e poi c'è il dato di fondo di una maggiore mortalità per alcuni tipi di eh tumore che fanno riferimento ad un eh questo abbiamo dati fino al duemilasezici duemila diciassette ad un ritardo soprattutto diagnostico e quindi gli screening e anche ad una eh rete del del eh dell'assistenza che con la rete oncologica campana probabilmente darà frutti che vedremo nei prossimi cinque dieci anni in termini di salute pubblica quindi ho piacere che eh che sia qui il responsabile dell'oncologia ospedale di Pozzoli perché l'AS Napoli due nord tutta la direzione di Antonio D'Amore che adesso guida il Cardarelli ha fatto enormi passi avanti l'ospedale di Pozzoli è diventato un ospedale che è quasi un hub eh sebbene ripeto eh è un centro spocco di una ASL territoriale a Giugliano è stato istituito un centro oncologico molto avanzato anche tecnologicamente quindi ci si è attrezzate almeno su questo versante eh e volevo che appunto il dottor Facchini ci parlasse di di tutto questo e anche eh del dell'importanza dell'accessibilità alle cure e anche alle cure più innovative che ha eh questo tipo di organizzazione. Bene buon pomeriggio a tutti grazie dottor Madone grazie per l'invito eh grazie anche per le belle parole di presentazione. Noi diciamo che a noi piace eh fare quello che è normale quindi non abbiamo fatto niente di particolare e e abbiamo preso spunto proprio probabilmente dagli stimoli derivanti dalla rete oncologica e dai dati di Mario Fusco negli ultimi anni perché eh da tempo si parla di eh rete oncologica però solo negli ultimi anni c'è stato un cambiamento reale innovativo e come sempre succede ogni cambiamento eh risente del contesto nel quale avviene perché pensare di adottare una eh rete oncologica in un contesto sbagliato ovviamente fa fallire tutto il percorso. In questo senso la scelta della regione Campania di adottare il modello del comprehensive cancer care network che non è la bespoke utilizzato per esempio in Piemonte o in altre regioni è stata una scelta che si è divirata strategicamente molto valida perché la regione ha utilizzato le strutture di cui già disponeva mettendole in comunicazione in rete e dando a ciascuno dei dei compiti. Questo è stato il primo elemento eh vincente. Ehm certo far parlare università, istituti di ricerca, istituti di ricerca eh ASL e quindi territorio non è facile per cui l'altra scelta vincente è stata proprio la creazione della piattaforma centralizzata perché per poter far funzionare un percorso è necessario che ci sia la centralizzazione dei dati, ci sia la centralizzazione del flusso dei dati e quindi la eh piattaforma regionale ha consentito innanzitutto questo. Una centralizzazione di informazioni e una centralizzazione di organizzazione di percorso. Non ehm basata su elementi singoli ma basata sulla evidenza scientifica per cui la prima cosa sono stati creati i famosi PDTA. Prima erano quattordici poi mano mano ogni anno sono aumentati di numero e sono stati aggiornati ogni anno per cui noi oggi abbiamo una piattaforma eh su cui lavorare inserire eh dati pazienti e gestire la presa in carico della di ciascun singolo paziente. Dall'altro abbiamo invece eh dei riferimenti normativi basati sull'evidence based medicine dove noi eh dobbiamo a cui noi dobbiamo fare riferimento e sono aggiornati ogni anno non solo dagli esperti messi insieme riuniti che ehm riportano tutte le eh più eh attuali innovazioni ma anche dai rappresentanti del del volontariato delle associazioni pazienti e delle mh altre categorie sanitarie per cui il lavoro si è amplificato e migliorato e ha dato una solidità strutturata. Questo è fondamentale perché quando noi lavoriamo in rete tutti dobbiamo rispettare le stesse regole e anche in questo senso per esempio nella rete oncologica sulla piattaforma sono state stabilite delle consensus a cui fa riferimento per esempio esiste la consensus della refertazione anatomopatologica se un paziente viene preso in carico sulla rete il referto anatomopatologico deve rispettare quei criteri altrimenti non è possibile vedere e valutare un paziente che ha una refertazione fatta in un modo in un centro e una refertazione fatta in un altro modo in un altro centro. Quindi tutti i pazienti rispondono e le refertazioni di tutti i pazienti rispondono ai requisiti richiesti dalla rete. Questo è l'elemento strutturale anche questo fondamentale perché quando poi andiamo a discutere in team multidisciplinare noi abbiamo tutti gli elementi necessari per poter discutere. Questo dà credibilità, dà sicurezza, dà qualità alla prestazione e velocizza il percorso perché non dobbiamo perdere tempo a chiedere revisioni o andare a chiedere eh secondo opinion a meno che non è strettamente indispensabile per casi particolarmente eh complicati. In questo contesto noi eh nella Napoli del Nord abbiamo lavorato molto perché l'altro problema che eh si realizza ogni volta che c'è un cambiamento è quello culturale di trasformazione e cioè non è facile convincere eh specialisti abituati da anni a lavorare singolarmente o con un proprio network eh che è più utile confrontarsi in maniera multidisciplinare e questo è stato un grosso lavoro. Noi oggi siamo a buon punto perché abbiamo maturato una eh consapevolezza e una innovazione che oggi ci consente di dare sicuramente le migliori indicazioni, le più appropriate indicazioni, ma non è stato facile perché convincere il chirurgo, il radioterapista o l'oncologo stesso a confrontarsi non era la l'abitudine consolidata. Oggi invece è diventata una richiesta. Oggi lo chiediamo tra tra noi specialisti ma lo chiedono soprattutto i pazienti e lo chiedono le famiglie. Il paziente vuole sapere se il proprio caso è stato discusso in un team multidisciplinare. Ancora una volta la rete oncologica e la piattaforma ha consentito la presa in carico dove noi non non prescriviamo al paziente fai una consulenza radioterapico, fai una consulenza chirurgica e la organizziamo professionale nell'ambito del team multidisciplinare e quindi lui il paziente non ha più bisogno di andare a scegliersi autonomamente. Lo può sempre fare, è un diritto del paziente di scegliere il team a cui rivolgersi o lo specialista a cui rivolgersi, però non ha più necessità di doverlo fare, non ha più necessità di doversi andare a prenotare. In oncologia i casi come in tutte le branche della medicina ma in oncologia in particolare i casi sono molto complessi perché il paziente oncologico ha un problema importante ma anche altre comorbidità spesso che richiedono consulenze di altri specialisti. Allora se pensiamo che per arrivare ad una diagnosi più complicata magari ci vogliono 4-5 liste d'attesa di prenotazione per sentire tutti gli specialisti non è più accettabile. Oggi invece richiamando nella stessa sessione, lo stesso contesto, nello stesso momento i vari specialisti noi in una sola volta riusciamo ad avere il parere di tutti gli attori di quel percorso diagnostico-terapeutico e quindi a prendere la decisione migliore nel tempo più veloce. Questo si trasforma sempre in ottimizzazione, in gradimento e in efficacia del percorso stesso. Noi dobbiamo dare risposte immediate. Pensate che negli ultimi tempi noi nel nel nostro team multidisciplinario, dom multidisciplinario orologico, siamo arrivati a incontrarci tre volte a settimana. Secondo il decreto 98 del 2016 da cui è partito poi tutto il percorso della nuova rete oncologica, è richiesto un incontro al meno una volta a settimana. Noi abbiamo sentito la necessità di doverlo fare tre volte a settimana perché il numero dei pazienti era elevato ma soprattutto facendo invece che in una giornata lunga di cinque ore, 35 pazienti, noi potevamo fare sette, otto pazienti al giorno in due ore, riuscivamo a gestire più rapidamente tutte le prestazioni di tutti i vari specialisti e a dare risposte più immediate senza dover aspettare un'altra settimana per poter fare delle richieste di approfondimento. Quindi siamo a buon punto. Da un punto di vista organizzativo la piattaforma funziona, ha funzionato, c'è stata una prima versione, adesso c'è già la versione 2.0 e ce n'è un'altra ancora che implementerà alcuni aspetti. Da un punto di vista culturale soprattutto è quello a cui io faccio più riferimento perché è stata la cosa più difficile ed è ancora la cosa, a volte ancora difficile perché bisogna convincere, bisogna motivare. La rete ha funzionato perché ci sono state diverse persone, diversi colleghi, colleghi e non colleghi, sia medici che non medici, infermieri, ma anche persone, lo cito ancora una volta come Mario Fusco che ha lavorato un po' di vista epidemiologico in maniera molto severa e significativa, hanno creato la motivazione affinché tutto questo fosse realizzato e andasse avanti. E adesso i risultati ci sono. Le persone che partecipano ai team multisciplinari sono convinte che questa è la strada più moderna, è sicuramente attualmente la migliore e sicuramente dovrà essere ancora implementata, ma ogni volta il cerchio si allarga e quindi noi raggiunto il livello cerchiamo di migliorarlo poi successivamente. Sicuramente bisognerà lavorare ancora su personale, è stato già citato, aumentando i volumi, aumentando le prestazioni, c'è bisogno di un apporto di risorse umano più importante. Però anche questo bilanciato con una buona organizzazione e con un supporto tecnologico che aiuta evita cose ridondanti, evita perdere il tempo, evita sprechi, per cui tutto diventa molto più sostenibile e dà ancora una volta qualità, gradimento ed efficacia. Su questo ci siamo mossi. Noi l'abbiamo fatto in maniera molto intensa sulla Napoli del Nord, ma tutte le ASL si sono date da fare e ci sono dei numeri già molto elevati sulla piattaforma, almeno da quello che mi riferiscono, per le altre ASL, lo hanno fatto molto bene le aziende ospedaliere, le università, in particolare poi l'Istituto Tumori di Napoli. Per cui penso che dobbiamo solo continuare su questa strada, dobbiamo continuare a sentirci, a comunicarci, a confrontarci affinché possiamo trovare delle soluzioni, soprattutto tecnologiche che velocizzino il percorso. C'è necessità che ci si parli sempre di più anche da un punto di vista informatico perché molte volte noi dobbiamo ripetere, o c'era appunto in passato, la necessità di ripetere delle azioni che oggi non hanno più motivo di esistere. Una volta caricato l'anagrafica del paziente caricate sulla sulla piattaforma o meglio ancora sul fascicolo elettronico sanitario, i dati, i referti del paziente, tutti gli attori che hanno diritto a valutare quella problematica possono accedere su una sede centralizzata, lavorarlo, dare il proprio apporto e andare avanti. Quindi io spero che nei prossimi tempi possiamo, con tutti insieme, ottenere sempre di più e a tutto vantaggio sempre del paziente, dei familiari e della nostra organizzazione sanitaria. Grazie. Bene, grazie a lei. Dottore c'era la tela che voleva brevemente fare una domanda. Io volevo sottolineare solo una cosa rispetto alle esperienze di Pazzuoli, che al di là di tutta la capacità organizzativa della rete oncologica, ha messo in piedi quella è una struttura doveva parlare da padrone gentilezza e sorriso, che sono i due valori aggiunti che nessuna piattaforma ti può dare, che qualsiasi paziente oncologico, accolto con gentilezza e soprattutto con un sorriso, ha un percorso diverso nella gestione della propria patologia. E io glielo dissi la prima volta che ci siamo visti perché questo fu l'impatto con il suo reparto e continua ad essere così anche da tutti i feedback che arrivano e questo dipende molto, anzi fondamentalmente dalla gestione di un reparto e di una struttura. Quindi volevo solo sottolineare questo valore aggiunto che la singola struttura è riuscita a dare all'interno sistema. Bene, dopo questa testimonianza diretta eh di cittadinanza attiva della eh qualità anche percepita non soltanto eh diciamo eh espressa in termini scientifici e clinici eh ci avviamo la conclusione non prima di aver eh dato la parola Massimiliano Spada che è coordinatore regionale del dell'IOM del di Siciliana anche lui collegato su Zoom e abbiamo ancora eh circa trecentocinquanta persone collegate su Facebook è stata seguita eh attentamente e eh a lungo questa giornata di prima giornata di lavori sull'OnConnection domani dalla eh dalle dalle ore nove inizieremo fino alle diciotto una lunga maratona con una serie di interventi in cui toccheremo altri punti eh scoperti della eh della delle reti oncologiche e della connessione tra innovazione eh accesso alle cure e eh la possibilità di migliorare eh il eh il servizio sanitario erogato ai pazienti oncologici intesi eh intendendo l'oncologia come un uno dei parametri attraverso i quali possiamo andare a misurare eh anche quello che riguarda altre discipline mediche e chirurgiche. Eh prego eh dottor Spada. Grazie buonasera a tutti mi scuso sarei dovuto essere lì ma sono a casa febbicitante quindi anche la voce non è il mio solito insomma spero che mi possiate sentire abbastanza bene. Eh ringrazio i colleghi e saluto che saluto anche eh perché hanno affrontato diciamo quasi tutte le tematiche adesso a quest'ora del pomeriggio e così ehm dopo tante relazioni così eh eh vaste e che hanno toccato tutti i punti della dell'organizzazione, dell'organizzazione percepita, della futura possibilità di ampliare le reti eh oncologiche e le possibilità di dare risposte al ai nostri pazienti. Insomma è un po' complicato, un po' difficile poter apportare ulteriori elementi di discussione. Però il quello che volevo focalizzare è il fatto che ehm la necessità la necessità eh primaria è quella di riempire gli spazi della della rete, cioè con con personale, con personale medico, con personale infermieristico. Abbiamo detto tutte quelle figure importanti, ancillari, di necessità, di necessarie per il supporto e per la collaborazione, per per dare risposte immediate e anche ehm poter dare eh lustro ulteriore alla ricerca che vengono svolte, la ricerca che viene svolta anche in ambienti ospedalieri e non solo universitari o accademici. Eh dove spesso sono i medici a a occuparsi della parte della segreteria, del data management, della del data entry che forse è quello più complicato e che spesso invece eh viene appunto demandato dove ci sono gli specializzanti. Ma il il la questione è che il si è discusso delle possibilità di ampliamento ma in realtà negli ultimi anni i dati ci dicono che anche in previsione il il numero degli specializzanti ad esempio sarà ridotto dopo tre quattro anni invece di incremento che il solo nel duemila e ventisette avremo forse un andremo a bilancio eh a parità eh eh per quanto riguarda la formazione di nuovi infermieri la messa a a lavoro che solo i medici curanti hanno avuto in Sicilia la possibilità di avere più borse rispetto ai bianni precedenti. Tutto il resto invece sarà diciamo eh deficitario, continuerà ad essere deficitario. Ora dopo tante eh parole di eh eh così di eh entusiasmanti non vorrei risultare la Cassandra della situazione però di fatto con questi con questi dati dobbiamo fare i conti. Quindi sì eh ampliamo le risorse eh strutturali ma impegniamoci anche ad essere garanti nelle istituzioni che si possa ripianificare la la e riprogrammare la l'organico, l'organigramma in modo che queste strutture non siano come posso dire le innesimi eh cattedrali nel deserto dove sarà difficile poi dare risposte eh eh ai pazienti perché non ci sarà probabilmente lo specialista a dover dare questo tipo di informazioni e dare queste possibilità di cura. Il il naturalmente in questo ci potrà aiutare la telemedicina così saranno eh bellissima l'esperienza che ci diceva il dottore Facchini che saluto e speravo di incontrare e il 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 e quindi la possibilità che siano le idee che siano le informazioni a viaggiare e non i pazienti che spesso hanno un effetto rimbalzo da una consulenza a un'altra da uno specialista a un altro e che il percorso spesso viene in qualche modo viziato o eh deciso dal primo specialista che lo incontra quindi è importante che sia il 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 gruppo il il specialisti eh nella multidisciplinarità del PDTA che appunto comunichi anche la diagnosi e che si faccia carico dell'organizzazione della 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 del piano appunto diagnostico e terapeutico molti pazienti al sud li perdiamo dalla diagnosi al primo momento eh eh terapeutico perché eh con la diagnosi appunto di neoplasia è assolutamente eh comprensibile il senso di eh di stordimento che i pazienti eh eh hanno e che eh necessitano appunto di una risposta che sia compatta che sia sicura che sia basata sull' evidenza eh e quindi ehm è corretto che siano il gruppo che sia il gruppo multidisciplinare a farsi carico dell'organizzazione della della del progetto quello che diceva il dottore Pitello se non ricordo male dell'inizio dell'alleanza terapeutica solo così possiamo in qualche modo riprendere i pazienti che ancora oggi eh eh si regano diciamo extra regione per eh curarsi quando invece potrebbero sicuramente grazie alle alle eccellenze eh mediche che si hanno nella loro regione potrebbero curarsi a casa e quindi evitare anche quello che è il costo della tossicità economica per quello che è la la il caregiver che si farà carico del del supporto al paziente oncologico sappiamo che le famiglie si ammalano non solo il paziente e con questo vi saluto e vi ringrazio e mi scuso ho veramente quasi 39 di temperatura non ho proprio le idee chiarissime grazie grazie a lei dottore adesso eh io ehm aprirei insomma questa tavola anche a delle domande diciamo sostanzialmente eh eh noi abbiamo delineato un un sistema di di rete che eh eh tassello su tassello ha costituito un un modello efficace per migliorare le cure oncologiche ora eh in questa rete eh voi che siete sul campo che cosa è che manca per fare quel passo ulteriore che eh diciamo in qualche modo darebbe il segno eh di un riassorbimento di una lacuna eh di cui tastate il polso eh giorno per giorno rispetto alla vostra attività. Inizierei proprio dal dottor eh Paquin. Allora ehm siamo a buon punto quello che manca è la diffusione ancora più capillare del modello. Dobbiamo ehm ingaggiare tra virgolette ancora più specialisti eh lo ha citato prima anche eh lei del dottor Mautone o la il professore ehm Podighion anche l'ingresso delle cliniche accreditate insomma allargato questa possibilità di eh presa in carico del del paziente e dobbiamo coinvolgere ancora di più eh la medicina di base medici medicina generale perché eh sono stati fatti dei corsi di formazione ehm però ancora eh sta insomma lentamente cominciando a realizzarsi il il percorso perché nel momento in cui saranno direttamente i medici medicina generale oppure ehm direttamente i medici dei programmi di screening a segnalare come già avviene per molti eh percorsi a segnalare sulla piattaforma la presa in carico sarà ancora più veloce, convincente e inglobante. Bene, grazie. Io sono più in difficoltà perché la rete come dicevo non è una piattaformale, è una rete formale, è una rete istituzionale quindi forse per quello che riguarda proprio le marche, proprio l'istituzionalizzazione eh definitiva di questa rete, la creazione di quello che stavo sentendo con le piattaforma fondamentale che in realtà noi non c'è, noi nelle parti non c'è. Abbiamo sicuramente la presa in carico, il paziente lo portiamo avanti, lo prendiamolo, o comunque no, dalla diagnosi fino all'hospice questo sì, ma poi i nostri dati rimangono all'interno della eh di quella di quella struttura che lo ha eh preso in carico e forse invece dovremmo condividere. Quindi perché comunque un momento di crescita che invece in questo momento nelle nostre giornate. Sì, Lorenzo Latella. Ma di solito si dice che una catena va giudicata dal suo anello debole e l'anello debole in tutto questo sistema, l'abbiamo detto, il territorio e particolarmente la la partecipazione dei medici di medicina generata e va eh consolidato quel quel percorso, il rinnovo del dei medici sul sul territorio può essere un mezzo per poter raggiungere l'obiettivo e poi va eh sviluppato secondo me un percorso di conoscenza un po' più generale. Noi in questa regione abbiamo un problema, si ha accennato prima anche rispetto alla prevenzione ed è la percezione della qualità del servizio sanitario regionale che risente dei dieci anni di commissariamento che risente del fatto che siamo ancora in piano di riemi e un taglio trasversale dei servizi. Dobbiamo invertire questa percezione perché la qualità del servizio sanitario eh regionale è eh elevatissima e allora dobbiamo investire su un processo di comunicazione che ci deve aiutare anche su tutto il percorso di prevenzione rispetto al quale noi non abbiamo una grande partecipazione agli screening in campagna anche perché sostanzialmente in passato benedico una molto semplice non arrivava il referto di negatività quindi una persona che aveva fatto lo screening all'interno di un ambulatorio non riceveva più niente e diceva te l'ho fatto a fare non non ho avuto risposto non è servito a niente invece era una diciamo un elemento positivo perché c'era una negatività all'interno del eh dell'esame. Ecco migliorare questi eh aspetti che devono aiutarci a migliorare la considerazione che il cittadino campano ha rispetto all'intero sistema che oggi è molto falsata anche per diciamo la gestione dei pronto soccorso della della nostra regione che sono oggettivamente in difficoltà e che però dargli un' immagine di un sistema che non funziona a quante realtà ci sono delle eccellenze straordinarie. Questi sono due elementi oltre a sottolineare tutto quello che ha detto il professor Parchini perché è esattamente quello la capillarità sul territorio. Bene grazie fra poco si collegherà per le conclusioni eh Walter Locatelli che eh ci darà un po' eh un po' la presidente di Oraro che ci darà un po' la la fuma di questa giornata un po' di di tirare le conclusioni eh in attesa che sia collegato con noi volevo. Se è collegato allora gli diamo immediatamente la parola. Prego dottor Locatelli. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Credo sia estremamente impegnativo tirare le somme di una giornata così importante e quindi cercherò di farlo nel modo migliore che mi è possibile. Grazie per l'ospitalità per avermi atteso in questo pomeriggio eh eh io descriverei quello che è l'obiettivo dell'associazione di Oraro che è nata quest'anno quindi ha pochi mesi di vita. Credo che questi primi mesi siano stati utilmente eh trascorsi per eh mettere solide basi e dare una impostazione che consenta di dare le risposte che anche oggi sono sono state oggetto di dibattito e eh per far sì che possa essere messo al servizio di quelli che ne hanno bisogno una associazione dedicata ai malati di tumori rari che nasce su un'esperienza eh uno spin off di un'associazione che territorialmente ha saputo dare delle risposte importanti. Un' associazione per la prevenzione e la cura dei tumori in Piemonte e nelle sue interlocuzioni questa associazione ha verificato l'importanza di poter avere un contenitore, uno strumento con persone competenti, quindi eh non solo la parte organizzativa che possono organizzare quelle risposte che ad oggi sono sono richieste. L'associazione quindi è stata costituita il quattro aprile di quest'anno ha un suo assetto organizzativo, è stato richiesto e ho fatto volentieri, ho avuto l'onore di presiedere questa associazione dalla sua nascita, con me in associazione vi dico perché probabilmente alcune di queste persone sono conosciute proprio per il loro lavoro che hanno fatto nella nella associazione originaria Annalia Di Liberti e eh Giampiero Nebbiolo. Rari non vuol dire pochi e quindi l'approccio con la delicatezza necessaria su un argomento che riguarda molte persone, quindi molti molte persone che vivono condizioni di fragilità non soltanto per la loro malattia ma per il contesto di informazione, conoscenza e supporto che dovrebbero avere. Questa associazione è stata presentata agli interlocutori, alla stampa e agli interlocutori più importanti. Il 4 maggio c'è stata a Roma la presentazione dell'associazione, erano presenti presidenti delle commissioni Camera e Senato, affari sociali, igiene e sanità, erano presenti assessori regionali, erano presenti esperti e persone competenti della materia. Cito uno per tutti, il professor Paolo fronzato, che sentiremo ancora nominare tra un attimo, perché una delle prime azioni che è stata svolta da parte di Io Raro, è stata quella di darsi una solid base culturale e scientifica, quindi di ricercare la disponibilità di quei professionisti competenti in materia che potessero supportare lo spirito di iniziativa dell'associazione. E tant'è che è stato costituito un comitato scientifico che è composto dal professor Mario Melazzini, che è il presidente, dal professor Paolo Casali, che credo possa essere conosciuto dai più, dal professor Paolo Pronzato, che ho nominato un attimo Paolo Paolo, dal professor Fabrizio Pregliasco, anche il professor Pregliasco credo sia conosciuto, la professoressa Filippelli per gli aspetti con le sue competenze in ambito farmacologico e un avvocato esperto di problemi etici, perché è chiaro che lo spirito di Io Raro non è quello né di sostituire né di effettuare azioni che non competono, in particolare in un momento come questo, ma è quello di essere un punto di riferimento per i pazienti, per le loro associazioni, per poter dare quelle risposte che possono condensarsi in essere il punto di riferimento per l'accesso ai centri specialistici. Una delle azioni che è in cantiere, quindi è una delle prime, è quella di poter avere una mappa semplice di tutti i centri che si occupano di malattie rare nel nostro Paese. Sicuramente tante informazioni ci sono già, avere una mappatura puntuale in ogni punto di Italia, in ogni punto regionale, chi può dare queste risposte può essere sicuramente un aspetto importante. Così come definire i diritti, i percorsi di accesso che vuol dire verificare lo stato dell'arte dei vari territori, identificare anche e sentire con assieme alle associazioni dei pazienti quale può essere anche il sostegno per l'aspetto psicologico e soprattutto mettersi a disposizione delle varie associazioni locali e regionali che operano già in questo ambito. Sicuramente le tecnologie che sono in atto e la specificità dell'ambito oncologico relativo ai tumori rari impongono un'attenzione particolare ad un utilizzo mirato di queste tecnologie. Sappiamo e so per esperienza diretta che l'ambito oncologico è quello che in realtà io ritengo in modo efficace e positivo, però gli aggettivi ridondanti non li voglio utilizzare, abbia da tempo applicato con le sue reti, con la legislazione e con il lavorare assieme, abbia già trovato una risposta a quei concetti di integrazione ospedale-territorio perché in moltissime realtà la rete territoriale, la rete oncologica dà risposte estremamente puntuali. Ecco quindi la raccolta e delle esperienze che ci sono e soprattutto un altro aspetto, poter essere di aiuto e fare formazione a chi ha bisogno e a chi accompagna le persone che hanno dei bisogni. Ma una formazione capillare in un percorso che riguarda i tumori rari e quindi in un percorso integrato sicuramente va magari ripensata assieme a chi già ha la pratica che conosce i punti critici, in particolare per quei soggetti che devono conoscere come ci si comporta e dove possono essere date le risposte a chi si presenta al nostro sistema con queste problematiche. E quindi un'integrazione ABESPOC che ha anche una particolarità in questo campo, quindi i centri specialistici per le malattie rare che sappiamo si rivolgono sia i tumori liquidi che solidi che in ambito pediatrico sicuramente non hanno una presenza diffusa in tutti i presidi ospedalieri e quindi una rete di ABESPOC che tenga conto anche del tempo di integrazione necessario a far sì che conoscenze di base, di approcci, i protocolli che vengono attivati sulle varie situazioni specialistiche e cliniche possono portare. Io credo che, spero, che questa prima ricognizione possa essere ideata e studiata assieme a professor Pregliasco per cui a breve penso che il percorso di raccolta di questi dati possa essere importante. Ecco, con professor Pregliasco in particolare una definizione della epidemiologia di queste situazioni perché noi abbiamo spesso sì dei dati sia di incidenza ma soprattutto di prevalenza che si riferiscono al contesto europeo, al contesto italiano, ma probabilmente hanno la necessità di essere verificati e puntualmente analizzati in modo più dettagliato e con la competenza di chi lo fa per professione e sa quindi utilizzarli al meglio per avere proprio una dimensione e una possibilità di risposta ai bisogni dei pazienti. Io credo che per il resto di risposte oltre a quelle che sono giunte dal lavoro di oggi non sia neanche giusto tirare queste risposte. Il lavoro a rete credo che sia la risposta principale. Il lavoro a rete con le varie competenze, le professioni che sono interessate e sicuramente trovare dei momenti che sono molto faticosi e difficili da organizzare di formazione anche comune su alcuni aspetti che per loro caratteristica hanno una natura ultraspecialistica di competenze molto molto elevate e vorrei dire diventano tanti quando quando vengono misurati assieme ma tante di queste situazioni vengono presentate come di nicchia. Ecco io mi fermerei al momento qui nella illustrazione di Fioraro e delle considerazioni sul lavoro di oggi. Grazie grazie a professore Locatelli che chiude questa tavola rotonda. Adesso c'è tempo per fare un po' diciamo di considerazioni con Carlo Tomassini che è della direzione scientifica di motore sanità. Grazie. Io vengo dalla regione toscana e sapete tutti come è stato ricordato che peraltro subito dopo la regione Piemonte ha sviluppato una sua rete oncologica. Devo dire anche dosandola oggi stavoletto anche ai fondi finanziamenti, dosandoli quasi di un portafoglio no? Perché c'è un'azienda dedicata solo per la rete oncologica quindi però non possono fare i complimenti a quello che vedo oggi invece dentro il sistema. La Campania, la Sicilia, la Puglia, ne sentiamo parlare di rete perché abbiamo visto una rete eh come ce ne sono ancora eh in tante molto clinica eh basata sul anche perché in un territorio molto oggettivamente eh piccolo una rete quella siciliana che nasce anche sulla base di una rete già precedente molto strutturata e ha funzionato e funzionerà credo da un modello per tutte le altre reti che rischia la rete patologica e che quindi mette di funzionare molto bene anche avendo anche identificato l'ha detto nominato, c'è in sito, i centri, app, Facebook e così via quindi facendo dentro questa rete eh che ancorché è sempre clinica però molto lagga e molto strutturata per poi arrivare invece a una rete come quella eh della Campania che nella parte è stata ma anche velocemente è stata Ose ambendo a quella che è la forma più sofisticata e comprehensive eh che è il network che è ricordabile quindi una vera e propria potrei dirlo rete organizzativa una rete di percorso oltre a essere rete clinica con tutti i limiti delle eh della partenza ma che non sono limiti è fisiologia cioè è normale che debba essere così ma si può eh non è un interruttore no? Eh ricordava il collega Latella e dice ma il trenta per cento solo dei pazienti oncologici che entra dentro la rete è solo quattrocento medici medicina generale di cui cento soli sono attiva però noi tutti devo dire la verità siamo molto curiosi perché è è chiaro che questo è un modello molto alto e che ci piacerebbe guardare e capire meglio i suoi funzionamenti e anche i suoi risultati perché tra questi risultati c'è uno che mi incuriosisce sempre che ritorna sempre fuori vorrei capire se l'avete preso in considerazione come obiettivo perché eh è connaturato al lavorare in rete la rete è la chiave che abilita i vari professionisti dei tanti ospedali a dialogare finalmente quindi non entrare in una logica competitiva stupida che dissipa energia eccetera oltre naturalmente a tenere conto che il paziente ha diritto il miglior ruolo giusto giusto molto giusto insomma e andavo pensando a quello e eh mi colpisce sempre più e se questa comprehensive che era per me deve essere un modello di riferimento di quanti piccoli e grandi e sia anche in molti regioni eccetera può risolvere se noi scarichiamo dal PNE i dati di attività delle chirurgie oncologiche ne sono scienziti dodici linee prendo solo eh ad esempio quello senologico tumore al seno di cui si parlava oggi tumore al seno c'è una soglia ministeriale che è cento venticinque casi meno i cento venticinque casi non è sicuro non è sicuro per tanti motivi per l'esperienza professionale per le competenze non solo del chirurgo senologo ma anche di tutto quello che gira insieme l'anatomia patologia la medicina nucleare la radiologia e quant'altro corona e se questo è vero se io scarico tutti i dati PNE e li ordino potendoli trasferire sembra fatto apposta e trasferisci in foglio excel e ti ordina dati per ordine dei recenti interventi scopri sui mille cento interventi mille cento ospedali che fanno interventi chirurgici tumori del seno settecenti cinquanta hanno meno di cinquanta interventi chirurgici all'anno questo vale perché insomma ora su questo c'è una soglia ma che dire del pancreas che dire dell'ovaio che dire del il calcinoma dell'endometrio per esempio dove tanto per dirne un ereto sia nozione comune no che in quello avanzato il l'asportazione del del infonodi sentinella richiede per il chirurgo allo stato dell'arte di oggi una curva apprendimento e venticinque casi e se guardo per alcuni ospedali a stragrande maggioranza 2 ci mettono 3 anni per fare curva apprendimento a c'è qualcosa che non torna la domanda ma nella vostra eh organizzazione che vi siete dati è nuova eh più che promettente devo dire la verità più che promettente perché insomma si capisce subito eh rende e che renderà sempre più è prevista anche dal momento che comprensivi quindi ci sta tutto titolo dentro nell'organizzazione non solo nella patinia nell'organizzazione anche le chirurgie non le chirurgie i presidi chirurgici e le logie che grazie alla rete dovrebbero essere superate e che l'associazione dei pazienti compreso credo cittadinanza attiva eh sposano cioè eh ok per certi interventi ci si può anche spostare e superare la logia di una prossimità la domanda è chiara sostanzialmente se ci sono sostanzialmente c'è nella rete oncologica regionale poi lo facciamo dire è assolutamente uno dei presupposti costitutivi quindi dal 2016 è stato dal 2017 è stato redatto una una griglia e anzi sono stati esclusi in quella prima fase applicativa anche centri di un certo livello eh di qualità sia pubblici che privati che ne facevano sotto soglia diciamo di interventi poi la rete è stata implementata credo che questi dati a un certo punto anche per la scarsa eh presenza di alcuni tipi di interventi che sono molto pochi rispetto alla massa totale eh abbiano comunque usufruito di deroghe eh rispetto al fatto a rispetto a tutta una serie di parametri che poi nel dettaglio io magari conosce meglio beh io li conosco da utente no della della rete ehm e praticamente non non solo sono previsti eh e sono valutati c'è nella cabina di regia di controllo regionale della rete oncologica uno staff che è dedicato proprio al controllo al monitoraggio di questi dati dirò di più che attualmente eh mi risulta che eh vengono valutati anche il numero dei casi discussi in team multidisciplinare prima dell'intervento perché questo è un elemento un indicatore fondamentale per il buon funzionamento di una eh rete per il buon funzionamento di una indicazione quanto più appropiata secondo linea guida perché ehm può capitare che lo vede prima il chirurgo e magari fa l'intervento lo vede prima il radioterapista e per la terapia eh potiva succedere in passato il team multidisciplinare non può consentire questo eh si discute tutti insieme si prende una decisione multidisciplinare quindi l'indicatore è quanti casi vengono discursi prima dell'intervento se c'è un'indicazione chirurgica quindi si sta lavorando molto in questo in questo senso come degli obiettivi principali. E' quello che volevamo sentirsi dire. No no eh già già risposto e sottolineo solo il fatto che è accettabile lo spostamento di un paziente anche per diversi chilometri se si raggiunge il centro di eccellenza per quella specifica tipologia anzi è un indicatore di garanzia il fatto di doversi anche spostare una regione perché si viene indirizzati in quello che è proprio il centro specifico di eccellenza quindi noi abbiamo accorto davvero con con favore la rete oncologica e diciamo le le critiche che facevamo rispetto al trenta per cento dei pazienti o al numero dei medici di medicina generale sono in realtà costruttive perché noi siamo all'interno della della rete contribuiamo alla costruzione della rete perché è uno di di quei settori in questa regione c'è un dialogo costante con con le associazioni che non era scontato all'inizio però proprio come impostazione della nuova rete oncologica questo secondo me ha rappresentato il valore aggiunto soprattutto nella scrittura del PDTA dove Favo per esempio ha fatto un ottimo lavoro insieme alla rete oncologica quindi veramente un valore aggiunto è una di quelle rare volte in cui dire di essere campani e associare questo essere campani alla sanità è motivo del voglio e quindi sottolineavo se volevo ricordare che se non vado errato in sede di prima applicazione della rete oncologica regionale sono state comunque eh esclusi a a priori le strutture accreditate quindi diciamo eh una struttura accreditata eh per antonomasia il San Raffaele di Milano quindi qui in Campania che ci sono se solo a Napoli sessanta caschi pure accreditati di cui alcune di eccellenza che sono anche nella rete dell'emergenza erano state escluse a priori che poi questo diciamo sia stato un dato rivalutato anche alla luce appunto di alcune eccellenze mediche chirurgiche che facevano parte della rete per cui eh sono state eh diciamo recuperate con eh una valutazione più nel merito di dei dei casi minimi da trattare per rientrare nel livello soglia eh di qualità standardizzata bene io credo che eh siamo veramente in conclusione eh voglio ricordare e eh salutare anche tutte eh le persone che ci hanno seguito fino alla fine eh soprattutto su le piattaforme Zoom e Facebook eh diamo appuntamento a domattina alle otte e trenta per l'inizio intorno alle nove ci si dà sempre un quarto d'ora diciamo di tolleranza accademica per l'inizio della seconda giornata dove inizieremo con la tavola rotonda dedicata al PNRR ci saranno anche rappresentanti delle istituzioni regionali eh con cui andremo a più a fondo su quello che sono state anche oggi toccate eh come eh ramificazioni di questa discussione su su quello che sono appunto gli investimenti in salute con i fondi dell'Unione Europea e eh con questo vi saluto e vi auguro buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.